E la mia opera? Ah, facciela vedere l'opera, facciela vedere Che in realtà noi l'abbiamo già vista, Fede È un panetto di fumo? No, è un panetto di coca? Oh mio Dio, ma è bellissima! Muschio selvaggio, coca spettico, federico, martin Muschio, microfono, videocamere, luci Ospiti diversi, senti nuovi amici 20 minuti, un'ora di argomenti Della imprendibilità, giochi, l'aripotenza, risalte, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti Siamo negli anni venti Muschio selvaggio Digolo massaggio Pubblicitaggio Questa puntata è gentilmente offerta da Eurospin E dalla loro nuova Capsule Collections Grazie Eurospin per aver creduto in Noi! Muschio selvaggio! Sì! Bentrovati a Muschio selvaggio, abbiamo qui con noi Ercicoria Ciao belli E non so se posso dire Vieni chiamato lo sbirro Lo sbirro Anche, quando lavoro così Da alcuni, sì sì Quando lavoro decisamente Sì Lo posso dire io qual è il suo sovrannome nella criminalità? Vai Muscolo Orca di mia è scoperta Davvero? Sì Muscolo Sì esatto Beh come fai a saperlo? Si sa Si sa È famosissimo Infatti sono arrivato direttamente a Roma? Sì Sono stati fatti dei servizi su di te Anche su di te Siete due personaggi che hanno vissuto la strada in due modi opposti letteralmente Ok Se non si fosse capito Ercicoria è un cantante Comunque è un rapper E invece è un poliziotto Eh sì Poliziotto Per dato che non l'avevano detto lo davamo per scontato Però forse si capisce Perché non si capisce bene Non si capisce bene? Non si capisce che sei un poliziotto Sei un po' fuori dal comune Ma sì ma forse perché ho avuto la possibilità poi di fare altre cose Quindi di scrivere un libro che è una grossa fortuna Di fare anche l'artista perché è una cosa che mi piace Una cosa che mi dà modo di esprimermi Ma è una roba che mi dà la possibilità È una cosa che mi dà la possibilità di buttare fuori un po' quello che vivo lavorando Nel 2007 è uscito Cocaina, Allarme Sociale Nel 2009 un film con Rollovo a Sbirri E nel 2010 la Rizzoli Ha chiesto se volevo scrivere un libro sulla mia storia Quindi a seguito di questo c'è stata una grossa grossa fortuna Che è quella di riuscire ad andare nelle scuole a parlare di questo tema Che è un tema molto difficile Quello dei stupefacenti che io faccio il poliziotto Ma lavoro nel settore degli stupefacenti Quindi nell'antidroga Quindi è una tematica molto importante Nel vivo perché poi spesso la criminalità è un effetto della droga Cioè se attorno alla droga gira tutto La criminalità c'è il suo sostentamento con la droga Perché non mi sbaglio Cioè la droga mantiene la liquidità nelle tasche della criminalità Certo anche E quindi voglio dire sono realtà con cui ho vodo di confrontarmi ogni giorno E riesco a vedere le storie delle persone Storie delle persone che come dicevamo prima Fin quando non sono coinvolte personalmente O con persone vicine e care È un problema degli altri E se ci sono dentro In quel momento lì è un problema che riesco a gestire Perché comunque il detto smetto quando voglio Purtroppo è vero Vero per quello che lo dice Ma non è vero nella realtà E tu lo saprai meglio di me Assicuro Sì Cioè io credo che per uscire dalla droga La prima cosa essenziale che ci vuole È la volontà Devi davvero volerlo tu E poi ti devi fare aiutare Non a caso ci stanno le comunità o i cert Perché non è una cosa che puoi fare da solo Cioè ci vuole davvero Per farla da solo Ci vuole davvero una volontà incredibile Per esempio Una cosa che a me dà fastidio È I tossicodipendenti che si vogliono riprendere A volte hanno paura di segnarsi al cert Perché tutti quanti Si pensano che tutti quanti li giudicano Ok Queste cose succedono Soprattutto in paesi piccoli In Italia Dove tutti quanti passano davanti al cert Quindi può essere che ti vedono Là davanti Allora Non si segnano al cert E si comprano Le terapie In questo caso il metadone Al mercato nero E pretendono di essere loro A somministrarselo da soli E così Pretendono di uscire dalla droga Da soli E cascano il metadone Ma questo non accade mai Non accade mai Perché tu non hai studiato Non sei una persona Che sa come si deve comportare Con quel farmaco Per cui Non ci riesce nessuno Però diciamo che Sono cambiati anche un po' I tempi Quindi la sostanza Superfacente Adesso è un po' diversa La percezione Rispetto a prima Cioè negli anni 80 e 90 Era l'eroina Quindi anche l'aspetto fisico Dell'eroinomane E quello che girava attorno All'eroinomane Che era costretto A comprare l'eroina Quindi Il legame più stretto Era delinquere Quindi quello Non aveva una mezza lira E quindi doveva Andava a zanzare A zanzare subito Quindi Primo passo Ovviamente Se aveva ancora la casa La roba che ha in casa Poi appena esce di casa Tutta quella che trova in giro Quindi passava uno E quindi zandava addosso Adesso L'eroina c'è ancora Ma è Si è la percezione diversa Perché si è spostata Nei campi A vendere Quindi Non è più alla stazione centrale O in giro Nelle varie cazze Che la vedi in città Ma a Milano Nei parchi Fuori Milano Proprio in provincia Si ho letto E quindi Cioè In città Era rimasto Rogoredo Hanno addirittura Chiuso Delle stazioni Il parchetto di Rogoredo Esatto Quindi campi Proprio campi Di campagna Campi Proprio campi Quindi voglio dire Quello che era rimasto in città Era questo Che poi c'era un servizio Ed era reale Quello che avevano scritto Che dal Duomo Partivano Gli acquirenti E con la linea gialla Arrivavano a Rogoredo Era vero E noi avevamo dato Una risposta subito Perché avevamo Individuato Uno di quegli acquirenti Che poi lo sai meglio che me Che è uno che Consuma Alla fine Facile Che diventi spacciatore lui Quindi diventa lui Il riferimento E tu l'hai seguito Bravo Anziché Far tutto il movimento Di far andare tutti A Rogoredo Ci andava lui Prendeva le buste Tornava indietro E le dava A quelli che c'erano Ma qui In via Torino Che tra l'altro Adesso è diventato Anche mio amico Quindi alla fine Perché l'ho visto ieri E beh Ho seguito lui E lì Ho avuto la fortuna Sfortuna sua Che era andato a ritirare Trenta pezzi E quindi Ho arrestato quello Che gliel'ha dato E lui Perché ne aveva comprato I trenta Quindi era che ne aveva Comprato uno E quindi era vera Questa cosa Ma Questo è il discorso Dell'eroina Ma se parliamo di cocaina La cocaina non è così Cioè La cocaina La può vendere Chiunque In giro In qualsiasi contesto E quindi Non lo vedi È difficilissimo Vederlo Ma adesso Le fanno consegne A domicilio Quindi uno arriva E entra nel portone E tu ti attacchi Avete visto tutti e due L'evoluzione Sì Molto È molto più telematica La cosa L'ordinazione La fai con un'app Che non è rintracciabile Dalle forze dell'ordine Te metti d'accordo Ci vai con una macchina affittata Fai La vendita E te ne vai Capito Segnate tutto Questo procedimento Esatto No scherzo Sì Anch'io mi ricordo Che Però pure loro Adesso Attenzionano Sì ma ci sono anche Le contromisure Però è che ovviamente Non svelo Infatti Immagino che Come dicevi prima Cioè Siete un passo avanti Spesso Avete delle tecniche affinate Se lo fai dall'86 Dall'86 no Sono in polizia Dal 95 Nello specifico Questo In quel nucleo Io sono bergamasco Sì sì Quindi sono arrivato Nell'86 E poi dopo il corso Ho fatto tutto Alla prassi Quindi il reparto mobile Che era quello dei celerini E quindi poi Il corso d'effettivo Sono andato a fare Le volanti Quindi qua In giro per Milano Con il 113 Poi siamo andato a la Polmetro Che è la polizia metropolitana Perché c'è il settore E da lì ho iniziato A occuparmi di droga Già Al periodo delle volanti Perché quando c'era l'eroina Cioè io in divisa Mi mettevo sopra La tuta Quella del bianchino Sopra la divisa Comodissimo Coprivi a 100% Mi mettevo dietro le macchine E cuccavo Lo spacciato Ma anche quella relazione lì È molto particolare Perché in realtà Ma che io mi siamo Proprio svegliato La mattina E ho detto Beh adesso mi voglio occupare Di droga In realtà È una roba molto Molto più sensibile Io sono nato In un quartiere Di Bergamo Un quartiere popolare Ripeto 86 Avevo 18 anni Quindi figurati il periodo E era una realtà Che io vedevo sotto casa Questo mi ha fatto riflettere Io pure A 6 anni Mia madre mi faceva andare Al campetto E c'erano gli spacciatori Già c'erano 23-24 anni E vendevano una copa Beh io dovevo fare ancora meno Era sotto Cioè io abitavo al terzo piano Di un palazzo E nel bar sotto Era uno dei bar Dove vendevano Quindi da sopra Cioè io vedevo il tipo Che prendeva Che poi era carta stagnola Si metteva 2-3 più macchine Macchine più in là E tra le macchine Facevavo Con il cucchiaino Si era sparato Cioè quindi io Lo vedevo da sopra E quindi era una realtà Che vedevo Ma il fatto è Che non erano Degli extraterrestri Cioè era gente Che conoscevo O era magari Il fratello Un po' più grande Del mio amico Capito Se non poi Col passare del tempo Il mio amico stesso Quindi Cioè è una cosa Era normalità È molto difficile E tu l'avrai vissuto Con me Questa cosa Tu hai Delle persone Con cui condividi Un sacco di cose Ci vai a giocare A pallone Sei a scuola Poi ha Una frazione In cui fa una cosa Che tu non condividi Ma io mi sono Anche sempre chiesto Ma perché io Non la condividevo Cioè A dieci anni Quando è morto Il mio papà Cioè ho sofferto Cioè non è che Ho detto Ah lei è che bello Cioè i miei erano Persone molto umili Neanche mi avessero fatto Chissà quale tipo Di educazione Ma semplicemente Detto quello che Non era da fare E io ti dirò Con tutta onestà Che ho sempre avuto Paura della droga Cioè Ho sempre avuto paura Cioè vedevo Come diventavano E mi faceva paura Ma e qualsiasi cosa Anche Il fumare Cioè Sono andato Al mare Ed ero Ancora minorenne Eravamo tre minorenne E un maggiorenne Col furgone Io sapevo Cos'era l'ascis E la marijuana Lo sapevo Ma non sapevo bene Cioè sapevo Che era una cosa Che non si poteva fare E io sai cosa sapevo Sapevo che Chi usava quella Poi Andava ad usare l'altra Questo è quello Che io sapevo E quello che io percepivo Però quando eramo Eramo piccoli Io percepivo questo Noi avevamo molto meno Accesso alle informazioni Perché io ho Ma allora era questo Ascolta Io ho dei ritagli Del giornale Del messaggero Me li conservo Del 1996 In cui c'è scritto La marijuana uccide E non è vero Però Io ti do A me Mia madre si presentava Con questi articoli E mi diceva Tu non ti devi drogare Non ti devi drogare Che muori Quella era una frase Che mi diceva In bergamasco Però Lo dicevo Allo stesso modo Droghe smia E va bene Però Il punto qual era Quella Che la percezione mia Era questa Quando siamo andati Al mare E siamo andati Due settimane I miei amici Sapevo che loro Usavano Ma io cosa Potevo fare Là Cosa potevo fare Dire No io Me ne sto a casa E quindi Non sapevo nulla Non avevo la più Pallida di cosa Avrei fatto da grande Non sapevo nulla Di cosa succedeva Legale Inlegale Leggera Pesante Sapevo che facevano Questa cosa E loro Cos'hanno pensato bene Di portarsi La scorta E quindi Hanno preso Un panetto Un bel panetto E sono messi nel furgone Di cosa? Di marijuana Di hashish Ok Cioè Un panetto di hashish Carcere Sì La confezione Di famiglia La confezione Di famiglia Di Dago Stara Sì Perfetto Ma il punto È che io lì Mi sono accorto E stata facendo Che c'era dentro Però A cosa potevo fare Quindi l'unica cosa Che ho pensato è Beh beh Se mi fermano Io non la uso Quindi io non la uso A loro Avevo parlato chiaro E quindi Se ci fermano Io non ne voglio sapere E quindi Se mi fanno le analisi Vedranno che io Non ho mai fumato Neanche una canna E quindi Io ero forte di questo Ma avevo 16 anni Punto Questa è l'informazione Che io ho saputo Ti posso fare una domanda? Certo Se tu Avessi incontrato Allora Tu poi In un futuro Sei diventato Un signor poliziotto Un predatore Di spacciatori Uno che toglie Le cose pesanti Cioè Sei quello che Toglie Toglie la mondezza Da in mezzo alla strada Ok Allora Considerando Quanto sei diventato forte E che necessità C'è del tuo lavoro Cosa pensi Voglio sapere Che pensi Se quel giorno Ti fermavano E come racconti Gli amici tuoi Non erano veramente In un lavoro E sei veramente competente Non ti sfugge nulla Allora Vorrei sapere tu Che cosa avresti provato Se un poliziotto Ti avrebbe poi rovinato la vita E non saresti potuto diventare Quello che sei oggi Allora Questa è una domanda Molto complessa Che ha molte risposte Però Perché Ci sono molte situazioni Ci sono Tante possibilità Il fatto è che Comunque È sempre una questione Di scelte Quindi Lì c'è stata La mia scelta Di Voler rimanere Con loro Malgrado Ci fosse stata Una situazione Che poteva mettermi In pericolo Anche se Non lo sapevo Quindi questo È il primo passo Il secondo è Che cosa sarebbe successo Tu ovviamente Mi dici Beh nel caso In cui loro dicono Guarda la storia È nostra Quindi Angelo Non c'entra niente Il poliziotto Cosa avrebbe fatto Ok Sequestro a carico Degli altri E a lui niente Il niente Fino a un certo punto Perché comunque Avrebbe Segnalato Che io Ero assieme agli altri Però non è un articolo 100 No 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 Certo No no Assolutamente no Però è sempre una segnalazione Che tu Eri in quella situazione là Che comunque Non va a finire Da nessuna parte Non è penale Non è solo amministrativa No no Neanche lì Perché se loro Mi scagionano Perché dicono Che la roba è la loro Io Non ho nessuna responsabilità Però sei segnalato Non è una segnalazione Rimane Nel senso che Se qualcuno Cioè Rimane Vai a cercare un lavoro A loro A quelli che fanno Indagini su di te Dal lavoro Non risulta Ah bravo Ma lui in volante Quando ti ferma Risulta anche Può risultare Che sei stato fermato In quel contesto Il che diventa Un po' Antipatico Diciamo così Diverso è Se invece Tutti stanno zitti E questa è la cosa Pericolosa Tutti stanno zitti E quindi In quel caso lì Che tu gli vada a dire Guardi che non c'entro niente Fate mille E non c'entro niente Lì il sequestro A carico di tutti Ma quello che tu Mi hai appena detto È la situazione In cui io mi trovo Ogni volta Ed è quello Che mi Mi distrugge Perché so benissimo Che Rischio di Rovinargli Il futuro Ma In realtà È una scelta Che ha preso lui Adesso ti voglio raccontare Cioè è un contesto In cui si è messo lui Io dico sempre Se tu non fossi Storito Su quel furgone Sto parlando Da persone strane Cioè non saremmo qua A parlare di questo Capito Saremmo qua a parlare Di altro Sei tu che hai In un certo senso Un po' rischiato Perché Volevi Che andasse così Perché ti interessano Gli amici È ovvio Esatto Perché in quel momento lì Hai dato Importanza A quel momento Ma che non è Non è sbagliato È ovvio Che poi come dici tu Accidenti Una cosa così Innocente Innocua Rischiava Nel mio caso Di sputtanarmi Quindi io non Avrei fatto il falegname Tutta la vita Benvenga il falegname Ma non avrei avuto La possibilità Di essere Quello che sono E quello che sono diventato E a sua volta Aver fatto del bene Ha aiutato Molte persone Ho capito Però non abbiamo Una sfera magica Non possiamo dire Che cosa può succedere L'unica cosa Che possiamo fare È cercare Un po' così Non gli stiamo dicendo Ai giovani Non credere Nell'amicizia Ma pensa al tuo futuro No 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 Non confondiamo però L'amicizia Il senso dell'amicizia Con il senso Dell'amicizia Perché in quel momento Lì ci fa Tra virgolette Comodo Essere amici Aspetta Tu non fumavi però No Loro fumavano Aspetta Tu eri insieme a loro Perché eri veramente amico a loro Però ti dico questo In questo famoso viaggio lì Quando siamo andati in spiaggia Era classico Mi sembrava di essere in un film Quindi poi Il tipo con la chitarra Tutti attorno Con il fano Spinello Con un bel cannone Che girava Guarda Sembrava veramente un film E nel momento In cui abbiamo iniziato a sederci E arriva qua Ho detto Boh Ci siamo Giuro Guarda come se fosse in questo momento qua Mi ricordo anche la posizione In cui ero seduto Questa E il cerchio era così Ma lo ricordo benissimo Quindi Quando hai iniziato a fumare E hai iniziato a fare il giro A parte che Ogni volta che Passava da un uomo Era una ciucciata Generale Il cilum Il cilum Se l'ho ciucciato Mugor covid Camerà Eramo tutti morti Se l'ho ciucciato Anduti Quando è arrivato a me E ho detto Ali Ma guarda Quando ha fatto tutto il giro E è arrivato a me Mi è proprio arrivato Quel pensiero lì Ero con i miei amici Ero anche con altre persone No In quel momento Che è arrivato Ho pensato In un millesimo di secondo Perché ovviamente Stavamo di aspettare me Quindi quando è arrivato Ho detto E adesso cosa faccio Con la premessa Che io non ho neanche mai fumato Una sigaretta Però non sarebbe stato un problema Ma farò una ciucciata Farò vedere Ma il punto è che Quando è arrivato a me Erano proprio tutti lì E no E quei pochi che sapevano Che io non lo facevo E quando mi è arrivato Non lo so Guarda ti giuro Non lo so E ho fatto No E l'ho passata La decisione di una vita intera Cioè te lo giuro E in quel momento lì Ho proprio detto Dimostra che non hai bisogno di questo Cioè dimostra che O ti cagano di brutto O è la fine E quando l'ho passato E sono andato avanti Cioè sembrava proprio un peso tolto E mi sono reso conto Che ero uguale a prima Ugualissimo E loro Cioè in quel momento E poi è ritornato E ero lo stesso angelo Cioè non ti hanno giudicato negativamente Non mi hanno giudicato Ma capisco che non è sempre festa No Lì forse mi è anche andata lì Magari in altri casi Boh Avrebbero commentato Io mi sarei alzato Se era andato via Diciamo che è stata tutta una sorta Però non è così Perché la cannabis È una cosa che Mette insieme Se tu Ma io lì Non vuoi fumare Io mica che te critico Ma lo sai cos'è È che tu Cioè quello si è fatto Si è fatto la cara Cioè gli fumatori E quello dopo Quello prende E poi si sente più eforico E ride per qualsiasi stronzata E si sente bene Ma ti posso assicurare Che ridevo anch'io Sì ma infatti è la storia più Mi sono sentito benissimo anch'io Ma guarda Io so 12 anni che non uso più sostanze stupefacenti Quando sto in mezzo alla gente Che usa sostanze stupefacenti Io pure Mi diverto Però anzi magari vedo che Loro siccome ne abusano Dopo un po' Non si divertano più Si sono abbrutiti Esatto Ok Invece io ma Cioè posso stare Con l'occhio aperto E divertirmi Fino alle 6 di mattina Senza droga E penso a quando facevo sta cosa qua Che adesso penso a me come un coglione Perché ho buttato la vita mia Ho buttato i sordi miei pure Eppure la salute Se ti dico Andavo in discoteca Andavo al bar Andavo a giocare a pallone Andavo in tutte quelle situazioni All'oratorio In tutte quelle situazioni Che esistono anche adesso Cioè non è che ero nel 1100 Cioè voglio dire Era uguale L'adolescenza era lo stesso I stessi problemi I cannoni girano sempre Quindi c'erano ragazzi che lo facevano E c'erano ragazzi come che non lo facevano Io mi sono sempre divertito Cioè non ho mai sentito la necessità Di sentirmi per forza Appartenere a quel gruppo Perché loro lo facevano E io no Cioè io ero me stesso Poi se ti piaceva bene C'era male qualcuno A cui non piacevo Pazienza Però fondamentalmente Ho sempre avuto paura Poi non è che per forza Deve esserci Uno può anche non essere Cioè se fosse nello scaffale Io mica la vado a comprare Sì è che spesso è Ci sono tutti Ci sono vari casi Però spesso è una forzatura C'è quel classico peer pressure Cioè gli amici Che ti mettono Ti mettono Sì dai dai su dai Però ma dai ma fuma Fatti un cannone Che cazzo te ne frega Io facendo il liceo artistico Mi mettevano le canne in bocca Ma che l'ho iniziato L'hai finito? Sì l'ho finito L'ho finito Nessuno lo finisce di solito Io? Esatto Anche Federico Anche Federico ha fatto di certo Non l'ha finito Però mi ricordo che mi mettevano i cannoni in bocca Io soffiavo Cioè dicevo no Però era proprio una lotta Perché il gioco poi era Però questa è una cosa Dovermente sbagliata Perché ogni essere umano Ha un organismo a sé Per cui le cose che vanno bene per te Non è detto che vadano bene per me Per esempio Quando dei ragazzi escono la sera E iniziano a bere Dopo un po' se ho bevuto una birra Due birre Tre birre Quando c'è qualcuno nella compagnia Che ha la quarta birra Non se la può fare Non è che è stupido È un cretino È una pussi Ma è semplicemente uno Che sa bene quali sono i suoi limiti Per cui dopo tre birre Magari non riesce a stare in piedi Se si beve la quarta E non lo fa Proprio perché vuole ritornare a casa Con le sue gambe E un minimo di vigilanza Sì infatti l'amico che dice Dai bevi dai madonna È una carogna Perché non è quello Non è un amico tuo Ma è uno che ti va a vedere a quattro zampe Esatto Guarda come dicevamo prima Cioè al bar Vedevo quelli che facevano i movimenti Cioè anche se avevo 16 anni E non è che a 16 anni Pensavo a 18 farò il poliziotto Io facevo il falegname Quindi ero bello tranquillo Però mi accorgevo Perché i movimenti li vedevo Eravamo al bar seduti Che tu guardi che servì uno E poi ti rimetti a sede Ma che ha fatto? Bravo Non c'era il cellulare C'era la giornalità A giocare a carte O male e quell'altro Si alzava Andava via Poi questo andava via Con l'Audi a quattro E col ciao E quindi capì Sì quindi Poi vedevi i movimenti Però ripeto A me ha sempre fatto paura Poi c'era una cosa Che mi ha particolarmente colpito Io sono il quarto L'ultimo di quattro fratelli Il più piccolo E quando ho perso il papà Cioè mia mamma ha sofferto moltissimo E io ero proprio piccolo E il mio pensiero Era proprio quello Di non Non volerla fare soffrire Quindi questo Era il mio primo pensiero Non volevi essere un problema in più No Quindi Ciao 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 Scusate Riccardo Ma è che c'è Ciao Andro C'è il salone del mobile Bello Un'ora in ritardo È colpa di mia moglie Sei nel campo di calcio Con tutti i papà Che sono attorno Ti guardi attorno E il tuo non c'è Allora ti dici Vabbè Non è potuto venire E poi invece Dici No Non è che non è potuto venire Non verrà mai E quindi finisci di giocare E fai la tua doccina Tutti vanno lì Ah bravo È stato bravo E tu non hai nessuno Non hai nessuno Stavamo dicendo che Ognuno di noi Si trova in situazioni Dove poi può cercare Di trovare Una strada più veloce E quindi questo Era quello che mi è successo A dieci anni Poi arrivi a casa Il fratello più vicino a me Ha nove anni di differenza Quindi io dieci E lui diciannove Questo faceva i cazzi Suoi Quindi quando arrivo lì Guardo giù la finestra E c'è gente che spaccia E gente che usa Quindi capisci che tutto questo Di che quartiere sei? Io no Di Bergamo Ah sei di Bergamo Ok Quindi era C'è la dire Era un quartiere popolare Quindi era una realtà Molto difficile Che poi ho visto venendo qua Quindi tutto questo Io l'ho immagazzinato Capito? E ho fatto molta fatica Perché poi andare a ballare E allora Arrivi fuori E c'era il reparto E c'erano quelli Che si facevano di roba Che poi lo sai Che roba è eroina E quindi gli altri C'erano i fighetti Non sapevi mai Non sapevi mai a chi appartenere E che cosa fare Quindi sono cresciuto Con tutti questi Infatti mi viene da ridere Quando uno Mi viene a dire Ah ma tu però Non so cosa hai provato No Esattamente il contrario Guarda che è tu Che non sai Forse che cosa ho provato io Tu pensi che io Sei uscito da un uovo di Pasqua Cioè così A 18 anni E che spesso il poliziotto Io me lo immagino indottrinato In un certo senso Tu sei un poliziotto particolare Io ho visto i documentari tuoi E tu sei il poliziotto in borghese Che è il poliziotto da strada Che mi insegna anche il cicoria Il predatore di Buscher lui è Implagabile senza pietà Il brumotti antelitero No 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 Sei un precursore dei brumotti Però non c'entra niente Abbi pietà Poi voglio parlare Non offendemo Per favore No hai capito che No no poi infatti voglio parlare Anche di questo tema Brumotti è un alimentatore Però è diverso perché Lui vive in strada Cioè io ho visto Il documentario Che si chiama Sbirri credo Sì quello del film Poi c'è la cocaina allarme sociale Cocaina allarme sociale Dove tra parentesi A intervenire nel documentario C'è il mio psichiatra Che è venuto qui No Pensavo Ah è vero Quello dell'ospedale di Milano Se non me sbaglio Il dottor Ravera In quale veste era L'acquirente No 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 È quello che parla delle sostanze No no È quello che parla Spacciatore Sono i primi spacciatori Super contro le droghe Addirittura contro il CBD Addirittura No come Mi sono sempre chiesto Guardando da quel documentario Traspare una grande umanità Da parte sua Nel senso che Quando arresta Anche Cioè devo dire Io Ad oggi Magari ai tempi Avevo un significato Ad oggi Vedere arrestate le persone Per il fumo E la marijuana A me Mi piagna il cuore Possiamo accennare È rischioso sicuro Per te parlarne Però accennare Argomento legalizzazione Non so Tu che ne pensi? No E non puoi dirlo Lascia stare No non è vero Perché la direzione nazionale Antimafia Ha dichiarato Che loro Sono positivi Per la legalizzazione Della Io ti voglio dire Quello che penso io Adesso No quello che penso Con i poliziotti In generale Ma è un po' Legato a quello Che ti stavo dicendo Prima Il fatto che Da piccolo Io ho sempre avuto paura Di questa cosa C'era questa nomea Che poi È smentita Che se uno inizia Con Con la marijuana Te devo fermare Aspetta un attimo È un percorso Tu Lo smentisco Grande Però 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 voglio che mi dici Qual è la vera sostanza Che porta all'uso Di tutte le altre droghe No 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 Io ti dico Secondo me Qual è? Ce n'è una Il disagio No l'alcol Eh stavo per dirlo Oh Sì l'alcol Dicono essere La droga più pericolosa L'alcol è il vettore Che ti porterà a utilizzare Tutto il resto delle droghe Cazzo L'alcol è l'anticamma Scusami un attimo Tu su cocaina Ti vai a bere la gente A bere vuol dire Ad arrestare Grazie Ad arrestare la gente Al naviglio Ci siamo Dove facevano ancora I lavori in corso Ok Perché quello Quello che stava Quello logisticamente È una favola Per i pusher Perché hanno il controllo Territoriale In viagola In viagola Ok Ecco non c'è viagola E minchia raga Ho fatto anche io Ho fatto anche io le mie cose Diciamo Allora ascoltatemi Tutte due Quella su un naviglio Quella che era lì Sulla porta Sì Quella che sono arrivata E ho detto Ciao polizia Bravissimo Quel povero Quello là Il poverazzo Che vedeva le buste Sì Mi deve pagare la maglietta Ma vai No Mi deve pagare la maglietta E tu gli dici Qui dentro ci stanno sei pezzi Quello ti ha portato mezza piatta La maglietta E poi Le puoi buttare? Ah c'è la butta del tombino E quello va Sì quello lì No certo Però ascolta In queste zone Ci sono i locali Che vendono da bere Ok Certo La gente si embriaga Un po' fa manco un metro E beccata il nero Che gli vende la pallina Questo lo dici anche tu Sì certo Per cui che cosa significa? Che nei posti Dove vendono l'alcol Cioè stanno pure Gli spacciatori di cocaina Ok Che cosa significa? Che quelli embriachi Cercano sempre la coca Ok Non tutti Non tutti No no Assolutamente Non tutti Aspetta ma manco Scusate però Manco un passaggio Che è la realtà di adesso Perché c'è questo C'è questo C'è quello ubriaco E poi c'è quello Che gli fotte L'orologio e portafoglio All'ubriaco Perché è una realtà Che in corso comodo Oggi forse È il problema più grosso Però Quegli soffurti Rapine Che non stanno a parlare De stupefacenti Però voglio Gli ha un accolletto A livello di Tu anche sei ancora in attività Scusami Io sono alle 19 Sei quindi Aspetta stavo dicendo Adesso sei comandante No no Sono assistente capo Assistente capo Una squadra Una squadra che si chiama C'è un nome C'è un nome C'è un nome Oh mostro Mi hai studiato perfettamente Si chiama CCD Contrasto criminalità diffusa Ed è la squadra mobile È la criminalità più diffusa Ad oggi secondo me Sono le baby gang Critic ship Le baby gang È una realtà Adesso Sotto casa mia è pieno Io chiamo sempre la polizia Sempre Testimone mio Amore viene un attimo Scusa È una realtà Chiara viene a sottoscrivere Federico È uno snitch Io guardo la gente dal balcone Collaboratore di giustizia Poi metto auto blu Metto auto blu di Shiva Che dice auto blu Corro con i miei fratelli E chiamo la polizia È vero Sì è vero Sì è vero Sottoscrivo E chiamo la polizia Perché non voglio degrado Sotto casa mia Perché Leone tra poco Girerà in quei parchetti Bravissima Perché io sono cresciuto In periferia E quella merda lì Non deve arrivare in City Life Io sono nato tra Corsico e Buccinasco Quindi tra i figli degli andranghettisti E la periferia pura E poi mi sono trasferito a Rozzano Comunque il degrado c'è Soprattutto nei centri Comunque il degrado c'è spesso Nei centri centri delle città Più che nelle periferie In realtà quello che accade Magari tu me lo potrai confermare È che nel centro centro Almeno dove sono cresciuto io Dove il lusso incontra la strada È dove avvengono più crimini Perché io quando io uscivo qui da piccolo Al muretto di Milano E noi eravamo o di quartiere O venivano tutti da comunità E tu vedevi passare il ragazzino Col Moncler Con l'Aspesi Con lo Scarabeo Tutte cose che noi non avevamo Gli toglieva E lì Predazione E quindi tu Vedevi il divario sociale Ti venivano a scavallare Non sto giustificando l'atto È naturale È un'attività di branco Però il confine dove si incontra La periferia E la borghesia È proprio il centro Secondo me delle città Almeno per quanto riguarda Milano Non lo so Sì sì No ma è così Dove c'è Dicevamo in qualche puntata fa Dove c'è un McDonald's di solito C'è C'è tutto il resto Diciamo anche No quello che ti volevo chiedere Nel documentario Dove io vedevo tanta umanità Ma poi alla fine È veramente così Allora Dai Chi è che lo poteva dire Certo Io ho sentito dire Che comunque un sacco di criminali Lo rispettano Perché Che non so se è un complimento No no è un complimento Perché è uno giusto È uno giusto Si comporta bene Ok Quando volano gli schiaffi No non volano Mai Non ci credo Dai c'è sta un momento In cucaina In cui fai C'è sta uno Gli sei entrato dentro casa Gli hai trovato i pezzi E quello ti dice No ma io Non dormire qui No E tu una certa Fai mortacci Allora Mica tutti Sono bravi come te Che si mantengono fermi No vabbè Diciamo che ovviamente Ma perché ovviamente Mi stai a mentire Eppure io Non mi porti rispetto Allora guarda ti dico questo Come quello prima Con i chiavi e i pezzi Di entrare al tombino No Quello Quello me ne stava cercando No però È ovvio Dicevo Ho la fortuna Di essere un po' anticipato Da quello che sono Quindi perché Proprio a seguito Del documentario Ormai dal 2007 Che è uscito Quindi E con tutti gli arresti Che ormai ho fatto Mi conoscono E quindi sanno benissimo Chi sono Quando arrivo A mettergli le manette Diciamo O Ci incontriamo Sanno chi sono E quindi capisco Un atteggiamento È ovvio Che magari prima È stato un po' diverso Ma anche adesso Cioè se uno parte E mi accorgo Che mi sta arrivando Uno schiaffo Gli arriva sicuramente Prima lui Certo Però diciamo Che non è Non è all'ordine del giorno Ah meno male Ma diciamo Che è tutta una serie Di cose L'età L'esperienza Capisci come Devi avere a che fare Con la gente No Non serve Ovvio Diferso è Se uno scappa E vuole scappare Lì c'è la resistenza C'è la resistenza Allora No L'altro giorno Era sotto Dove eravamo lì In McMahon Una macchina Con due cinesi Ragazzi Giovani Tranquilli Ah è vero E L'autista Rimane in macchina L'altro Scende Mi passa Di fianco Io ero in macchina A guardare un'altra cosa Guardo Il mio collega Gli faccio Ice No Lo shabot Ah Perché Lo shabot Che è una droga Che è in questo concreto Lo scarto Della 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 Medanfetamina Che loro Magari fumano Anche Che fumano tanto I filippini Per lavorare tanto I cinesi Questo mi passa Di fianco Vedo la faccia Era troppo in sbattimento Dai un occhio A questo Intanto che guardo La macchina Questo Prende Va via Va dove c'è un bar Non c'era La festa del Milan Il giorno Della festa del Milan Il caos Il caos C'era tutta la gente Che stava passando Per andare Pieno pomeriggio Questo arriva Lì davanti al bar Mi leggo Lo guardo Era col motorino Mi fa Cazzo Angelo Si è incontrato Con uno Ma Non ho visto Chi è Ma ho visto Che sta mettendo Qualcosa nel taschino Guarda che sta tornando Alla macchina Questo torna alla macchina Dico Prova a vedere Chi è Quello Che gliel'ha data È quello che mi interessa Come parlate Col telefono O la radiolina No no Telefono No Ciao 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 Già col telefono Quindi questo torna alla macchina Parte con la macchina E ho detto Cosa facciamo Vabbè fermiamo Ho detto Cazzo Guardo dentro Lo vedo lì Col sacchetto Che lo stava versando Faccio un metro Torno indietro Tiro giù il telefono Il mio collega Guarda Si ferma con la macchina Arrivo Gli apro la portiera Mi sono seduto Nella macchina con lui Scusa Gli ho preso la busta Scusa Questa è mia L'hai fermato Sacchetto E io l'ho sotto così Così Lui poverino Mentre imbustava Era là così E' rimasto Cazzo Io ho la sensazione però Che arresti Arresti molti più consumatori Che spacciatori No Ma stava imbustando No Lui stava Lui Cosa è successo No Cosa è successo No magari sbaglio No Lui era andato a prendere Il sacchetto Che poi è un sacchetto Da 30 grammi Ah per venderlo Ah minchia E la stava vendendo A quell'altro Che era di Torino Ah La macchina Quindi era Quello fatto Era anche quello Che la vendeva Esatto Stava lasciando la busta Stava in macchina Quello magari Ha già dato i soldi Doveva ritornare Portagliare la roba Io ho rosicato Perché quello Avevo preso 30 grammi E non avevo visto Quello che gli aveva portato Che ne aveva molti di più Che quello sicuramente Poi andava a casa E io entravo in casa Cazzo Ma tu non hai Volevo fare due osservazioni La prima E che noto che tu Esattamente come me Per la chiesa Hai questo odio Amore Cioè Vedo che sei molto affascinato Beh anche lui A voi Sei super affascinato È un predatore De spacciatori È la mia antitesi La tua nemesi La tua nemesi Scusa Sì sì Anche antitesi Uguale Uguale Però Cioè Boh Mi affascina Perché vede che Ma mettici vicino E viceversa Secondo me E viceversa No Mettici vicino Tirate fuori la catena È vero Siete La faccia Della Due facce Della stessa medaglia La strada In due versioni Lo sai io poi che cosa ho pensato Tu sei un gran produttore Allora Ti va a riportare Un classico Della filmografia italiana Sui schermi Io e lui Fiamo i attori principali Bellissimo Lui si fa Ricresce I capelli lunghi E sai chi è È Thomas Millian Tu mi paghi Un riporto De due capelli qua Mi metti all'ingrasso Io so Bombo Su Su Maresciò Ho famo Ho famo No Maresciò Ma che me vuoi bevi Per due pezzi Di cocaina Però Potevo fare una versione Contemporanea Dai Che momento È una delle puntate più belle Mi si sa Ma infatti È un incontro Se erano in ritardo Se erano in ritardo Prima non riuscivano Si sono incontrati Sono abbracciati Bellissimo Ma vi conosce Ma forza Ma poi alla fine Andiamo nelle squadre Capito Fammo pure la stessa cosa La stessa cosa oggi Vero No Ho una domanda Sempre per te Non hai la sensazione Però Di prendere sempre I pesci piccoli Beh ma non è Una sensazione La realtà Ti mi presenti È quello che fa La squadra sua Bravo Eh che però è come No Alta L'indagini Li fa qualcun altro Allora La squadra di Milano Ha otto sezioni Quindi Una sezione Si occupa di questo Quindi dispaccio Ma al dettaglio Ok Un'altra sezione Che è la settima La mia è la sesta La settima Fa il narcotraffico Quindi Quindi c'è qualcuno Di hangar I porti Di narcotraffico Certo Certo Ci sono Però casualmente Magari si incontrano Magari Ti è capitato Di fare un incontro Che pensavi Di essere con uno spacciatorino E invece Si trovava Si rivelava Una roba Immagini Proprio in un altro ambiente Quelli non li becchi in strada Esatto Il problema Sono i livelli Ma anche gli informatori Perché noi andiamo avanti Molto con gli informatori L'informatore Vetti anche Un certo Snitch Infami Come ne pare Insomma Termine tecnico Il termine tecnico Beh però Sai che c'è Certo Ma perché Ovvio che qualcuno Vi deve dare dritta Perché se no Alcuni sequestri Non li fareste Perché beneficio Li trae l'infame Da voi Che magari Quando lo beccano Non si passa liscio Dai no Non sarebbe visto A me in carcere Qualcuno mi ha detto Che è pure stato pagato Cioè che C'è sta voce Che Guardi Pagano No C'è C'è l'informatore Anche ufficiale Quindi che Che viene pagato Dallo Stato No ma È un po' difficile Questo Non è particolare Perché è una figura Che Non sono mai riuscito A descrivere Bene Completamente Secondo me Non riguarda me Ma riguarda lui Secondo me È una condizione sua Più che una condizione mia Che c'ha voglia di parlare Perché Allora Fondamentalmente Io penso che una persona Intuisce Capisce Ed è responsabile Che sta facendo La cosa Che non dovrebbe fare Quindi Nel suo mondo Nel suo mondo Quindi deve trovare Un modo Un po' Per riscattarsi O comunque Per farsi sentire utile Questo Questo È un modo Poi ce ne sono tanti Molto più spicci Certo Debito Invidia Ce ne sono tanti Certo Perché se c'è quello Che arriva con il debito Fino a qua Quindi poi mi dice Non posso Quello che invece dice Vede quello che si arricchisce E invece lui no E tu provi il rispetto Perché io sono grande fan dei processi E mi è capitato di vedere il confronto Tra Pandico Non so se è presente E uno degli accusatori di Enzo Tortora E Vallanzasca Un infame per eccellenza Anche un collaboratore pessimo E Vallanzasca E nonostante Vallanzasca Abbia ucciso delle persone Pandico pure Però tentava di redimersi Io non riesco a provare rispetto per Pandico E empatizzo di più con Vallanzasca Perché era real Cioè a te capita di non provare rispetto per l'informatore Magari provarne di più per il criminale In qualche modo Empatizzare di più magari Non rispetto Ecco Ma No Sinceramente no Allora tieni presente che l'informatore È una persona Che comunque ha già relazionato con me In un modo o nell'altro Cioè non arriva dal nulla E viene Tranne Tranne In qualche segnalazione Che tra l'altro Non ultima Che mi ricollego a questo Vedo un tizio Classico acquirente In sbattimento In mezzo alla strada Che tra l'altro Questo è un po' Un superpotere Acquisito col tempo Quello di individuare Tu capisci che è in sbatti Sì Di brutto proprio Vabbè Stanna roda Sì Però Se sei un poliziotto E uno spacciatore Ci fai l'occhio Sì Non solo io Tutti quelli che lavorano con me Hanno quest'occhio qua Due nel tempo Quindi lo vedi Quello che è in sbattimento A volte è molto facile Perché vai al banco Ma ti esce dal banco Ma Chi è che va al banco Ma adesso Chi è? Sì Sì Se vai a puttane Oppure Droga Droga E poi non è mai distratto Uno spacciatore Sì Poi uno che va a puttane Non è così in sbattimento Tu Cicoria Volevo sapere invece Le tue esperienze pregresse Cioè tu Sei stato dentro Per quali reati Se non l'avete già detto Spaccio Era uno spacciatore Incallito Di quali sostanze? Tutte Allora io ho iniziato A 14 anni A muovermi in questo commercio E facevo prettamente Cannabis Marijuana Ashish All'epoca A Roma non girava Tanta marijuana Erano prettamente Panette di fumo Da 250 grammi Si chiamava cioccolato Cioccolato Certo Ma hai iniziato a scuola? Sì Ok Sì In pratica Te lo insegnavi Nel senso Sono durato sei mesi Però in verità Prima di iniziare A essere uno spacciatore In serie Io ho iniziato rubando Ho smesso di andare a scuola Perché la mattina Andavo a rubare Cose che Cioè nel senso I vestiti ai negozi Che costavano parecchi soldi E quindi potevo rivendermeli Cosa savi? La tecnica della stagnola? No Qual è la tecnica? Quella di foderare la borsa Con la carta stagnola Per non far Guarda che non sei brava Guarda che anch'io C'ho le mie esperienze Ma stavolta che non ci avevo mai conosciuto Ma ero stato molto bravo Eh infatti Chi non l'hai conosciuto Vuol dire che Tu foderi Adesso non so se funziona più Ma una volta Foderavi di stagnola Lo zaino Rifletteva i sensori Rifletteva il coso che suonava Vabbè Scusami Ti ho interrotto E quindi ho iniziato Con queste cose qua Poi ho iniziato Con il piccolo spaccio Di cannabis Dopodiché Mi sono fatto Due anni E mezzo Tre anni In una piazza di spaccio Famosa che era Al centro di Roma Si chiamava Il villaggio globale Ok Che bel nome Era un centro sociale Noi stavamo di fuori Da questo centro sociale E eravamo una decina Di commitive E tutti quanti Vendevano fumo Fumo e erba Si Poi la sera Magari Verso il fine settimana Giravano le pasticche La cocaina Però io Magari che ne so Qualcuno me la veniva A chiedere a me Io sapevo da chi andava Gli prendevo i soldi Mi facevo Il mio ricavo Si si Chiaro Facevi Non era Non era Ok Poi Ma tu la usavi? No Solamente Marijuana E le altre Non le usavi? No No Ho peppato la prima volta A 17 anni cocaina Però è stata una cosa sporadica Lo spacciatore adesso Spesso e volentieri È il consumatore Che non riesce a gestire Il suo consumo E quindi Spaccia per mantenere il vizio Certo Quindi che cosa fa? Ognuno sa Che ci sono Almeno Conosce almeno 10-15 persone Che la usano E quindi fa il riferimento Lui Quindi va lui A prendersi Diventa lo splendido E fa lo splendido Lui Si Si chiama lo splendido Questo È lo splendido Sono curioso Di sapere Cioè va lui A prenderlo Cioè dicevi Off camera Che vi siete incontrati Ah ok Allora io Nel 2014 Mi frequentavo Una ragazza Che stava qua A Milano Oddio E la sera Uscivamo Andavamo al centro Al Rattazzo C'era presente Oh mio Dio Il Rattazzo In colonne I miei amici Gli hanno spaccato la faccia Poverino Al Rattazzo Allora una sera Stavamo lì Qualcuno fumava Una canna Si beveva Si faceva di tutto A un certo punto A un certo punto È passato lui L'amici miei Tutti quanti Oh muscolo Muscolo Guarda 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 Tu Che hai fatto In mezzo al Rattazzo C'era un bagno chimico Ok Sei entrato dentro Al bagno chimico E hai preso Il telefonino E ti sei messo A riprendere Ci sarà stato Un gruppo Evidentemente Di spacciatori Davanti Dove stava Questo bagno chimico Si vedeva La luce Del telefonino E tu che riprendevi Ma può essere E poi E poi Te ne sei andato Ma secondo me Sei andato A chiamare I tuoi colleghi E a dirgli È positiva la cosa Ci hanno la roba Sta vendendo Ah ho capito Quindi si vede Che ero andato In sopralluogo Si stavi facendo Un sopralluogo Ma cazzo Dopo il documentario Ti è saltata La copertura No No Perché io arrivo L'ultimo momento Quindi quando Ah tu sei Lo special guest L'headliner Del concetto Justin Bieber Che onore Si lo spacciatore fa Arriva Sono tuo Sono tuo No vabbè Perché Comunque bisogna Sfatare un po' questa cosa Perché uno si aspetta Che il poliziotto Si mette lì E si metta lì davanti così Ah e come si va E si mette lì a guardare Quello che fa E ovviamente Se io so che c'è un posto Dove mi nascondo Io vedo lui E lui non vede me Cioè mi sembra normale Comunque lo spacciatore Cioè non è che dici Questo va nel bar Io vado lì E faccio il cliente Togli a bere A mangiare Ovviamente queste cose Non le posso fare Ma io le potevo fare all'inizio Ma come Quando spacciavano nei campi Cioè i campi Sono una conseguenza Dell'averli spostati Alla fine Perché abbiamo martellato Quello che era Romolo Cosa dici Quindi il campetto Tipo di Rogoredo Bravissimo Che adesso non spacciano più Però di No Perché Un poco la sera È capitato a me Gigi Quando ho scoperto Di avere il cancro Siamo andati a Rogoredo Sì in un parco vicino Era porti di mare Porti di mare Porto di mare Porto di mare Spacciano lì Porto di mare Passi sotto Ed entri Nel boschetto Che ti porta a Rogoredo E c'è ancora? Di sera Sui binari Qualcosina Invece ci è sembrato Pulito Però A intermittenza Quindi questo Li abbiamo spostati Noi Nei campi Che adesso Sono fuori Addirittura Nei campi Fuori In periferia Ma invece la realtà Della città Sono A domicilio Eh infatti C'è ormai Glovo Cioè con Glovo Si spaccia Anche Poveretti Che sono spacciatori Inconsapevoli Sto snicciando raga C'è lo splendido Il cicorio Mi guarda malissimo Ebi certo Ma volendo anche Uno che fa Glovo Ma sai che Glovo Anche ha la possibilità Tu dai a Cioè puoi scegliere Che ti vengano a prendere Qualcosa a casa E lo portino a qualcun altro E certo Così fanno Infatti Prendono una bamboletta Ci mettono dentro la roba E te la fanno E lì come cazzo Sono degli spacciatori Lì ti attacchi al cazzo Ti attacchi al trame E a tutto il resto Cioè il fattorino di Glovo Cosa rischia? Niente Perché quello Non lo sa È inconsapevole Dipende Esatto Se è consapevole Stava a dimostrare Però vedi che ci sono Adesso stiamo aprendo Un bel ventaglio Perché ci sono tante realtà Che la gente non sa Tipo quella che avevo iniziato a dirti Di quando sono andato al mare Con il panetto E che cosa succede Se nessuno dice Che è la sua Questa è la realtà Più classica Perché la compagnia Che va in giro E ha del superfacente Che non è per uso personale Ma è un po' di più E in una macchina Quello lo butta nella macchina E trovi un 10-20 grammi di cocaina Sì Ecco Se il tizio non se lo attribuisce lui È sequestro carico di tutti Quindi se nella macchina Tre erano consapevoli Ma il quarto Sì lo sapevano Non c'entra niente Uno se lo piglia in culo Il quarto se lo prende Sì Decide lo stato per loro Beh Lì sta nella coscienza Di quello Che diceva Sì ma Lì sta nella coscienza Che sei amico Fino a quel momento lì E poi ti attacchi al cazzo E quando poi Arriva il momento In cui devi andare a fare Una direttissima C'è qualcosa di diverso Le cose cambiano Ma è questo il discorso Quindi Anche il concorso Quello che tu dicevi prima Ah sì ma io Facevo il contabile Sebo Era reato Ok era reato E certo è reato Quindi c'è il concorso Nel documentario Che ormai risale a 2007 Minchia un sacco di anni fa Era tutto molto sul campo Adesso Come stavamo dicendo Entra in gioco La tecnologia Così come entra in gioco La tecnologia Per gli spacciatori Quindi vari Glovo Il telegram Voi avete degli strumenti Tecnologici in più No in più no Ci sono le classiche Intercettazioni telefoniche Cosa voglio avere di più Che cazzo ne so Ma non potete entrare Dentro Glovo No perché la sua La tua La mia sezione È sempre quella lì È quella che deve avere L'occhio Quindi c'è quella postale Che avrà delle tecnologie migliori O la segnalazione Quelli del Per reati mafiosi Ti possono entrare nel telefono Con Trojan Credo C'è la postale Che magari fa delle indagini diverse Però La percezione comunque Della gente È quella Della strada Quindi gli dà fastidio Il via vai Che trovano magari Nel condominio Che fanno la segnalazione E qui E qui apriamo No no E qui apriamo Una parentesi Che è La parentesi Brumotti Oddio Allora io Ti dico la verità Questa puntata Inizialmente Nella mia testa Dove fare con lui Con Brumotti Devevo fare Il cicoria Con Brumotti Vi sarete scannati Però io gli ho detto Qualsiasi problema legale Fedez C'è tanzi te L'avvocaduccio Me lo paghi tu Beh dai Però non voglio Che tu ti senta Una seconda scelta Perché in realtà Non è così Anzi meno male Perché Se avere un personaggio Interessante Brumotti Vorrei sapere Il vostro parere Su quello che fa Brumotti Perché io ho Un mio pensiero personale Ma sono incuriosito Da sapere il vostro Cioè Quello che lui fa Ovvero andare Con la telecamera Alla bici A documentare E a cercare E a fare Quello che fa Ecco Non voglio Show Sì Lo trovate Di pubblica utilità È denigrante Nei loro confronti Ok Perché abbiamo Fior fiore De forze dell'ordine Ma può essere Che gli spacciatori Se ne deve occupare Quello in bicicletta Così Con il microfono Così Che vi presentate In questa maniera Voi sui blocchi Esatto Esatto Diciamo che c'è Una percezione Sfalzata Di quello che poi È la realtà Delle cose Perché dici questo Ma sì Perché come dice lui Cioè È tutto diverso Il modo di intervenire Come interveniamo noi Eh perché lì È un po' una parata È un po' una parata Arrivo lì Ma ascolta una cosa Magari in un posto Che fa Dove lui Fa il servizio Alle forze dell'ordine Già precedentemente Hanno avuto segnalazioni Dei cittadini È denigrante Pure verso i cittadini Mi sembra È il fio dell'ogga bianca Diciamo che le cose Che lui segnala Non è che noi Non le conosciamo Esatto Però magari stanno A fare indagini L'aspettano Perché vogliono Smobilitare tutta quanta E allora la domanda Che pongo è Ma sono le forze Dell'ordine Che gli dicono A Brumotti Ok Li stiamo per arrestare Vai a fare lo show Oppure è lui Che va a fare lo show Prima che No guarda Questo non te lo so dire Cioè Io non lo conosco Non si è mai Interfacciato con me Non lo so Mi sembra Quasi impossibile Che le forze dell'ordine Gli vadano a dire A lui Vai a segnalare A far vedere questa cosa E quindi in qualche modo Potrebbe interferire Con delle indagini Facendo come fa Potrebbe certo Potrebbe anche Però da un lato Io non mi sento Cioè Io capisco Il tuo punto di vista No Però da un lato Lui fa il suo lavoro No ma lo sai Certo Fa il suo lavoro Ovvero documentare Allora che Un giornalista Ha diritto di parola Su quello Non ci piove Però Ti posso dire una cosa A un certo punto Io preferisco Altri giornalisti Che fanno lo stesso lavoro Tipo Klaus Davi Quello va sotto Ai mamma Santissima Dell'Andrangheta E gli pone le domande Come io Gliele vorrei porre Ok E non si ferma Non ha paura Davanti alle minacce No Allora Quello Va a prendere Le persone davvero responsabili E che non se lo guarda Un cazzo di nessuno Tra l'altro Lo guardiamo io e te Perché Va dove sono nato io Va a Buccinasco Nei bar Luosi per riguardarti Un po' Il quartiere No Sono tutti padri Di quelli che venivano Una scuola con me Sì sì ho capito il senso Quello è più Fine a se stesso Cioè nel senso Lui pure va a prendere Le ultime ruote del carro I dettaglianti Ok Però In quello che fa vedere lui Per esempio In cocaina O in sbirri C'è pure una parte In cui lui si interessa Delle persone Ovviamente Gli deve Arrestare Ok Però lui si interessa Delle persone C'è una storia Come dice lui Alcuni mi rimangono amici Alcuni ci sentiamo Sì sì Che è il modo tra l'altro Per reinserirli Nella società Mi viene da dire Perché vengono deumanizzati No spesso Ma tu devi tenere presente Tu dovresti Fare un attimino Coscienza di quello Che hai raccontato prima E di pensare A come ti sentivi In quel momento In cui stavi facendo Sì se in quel momento Fosse arrivato Brumotti C'è una parola Vulnerabile Perché pensa Se ti avessero fermato In quel momento lì E avessi trovato davanti Delle persone Che in qualche modo Infierivano ancora di più Su te Con un atteggiamento arrogante Sì sì Oltre a quello legale Quindi in quel momento Penale Ti saresti sentito Bersagliato E quello che a me accade E quello che ho realizzato È proprio questo Cioè è come sparare Sulla croce rossa Capito? Cioè questo è In un momento di difficoltà In quel momento Io non ti sto giudicando Tu hai fatto una cosa E io Te la sto ponendo davanti Lo sai io come la vivo? Come Una Una Seconda possibilità Cioè Ti metto nella condizione Di dire Cerca di realizzare Quello che stai facendo E ti sto creando Un'opportunità Una sveglia Io la vedo come un'opportunità Il fatto di interrompere Quello che stai facendo Faccio l'avvocato del diavolo Posso dirti Aspetta un attimo Una cosa Però non sempre va a buon fine Angelo Adesso ti racconto una storia Tu dove andavi al liceo A scuola? Umberto Boccioni Benissimo Tu frequentavi la succursale Al Bonola Benissimo Lui Nel 2005 Era fuori la centrale Come cazzo fai a sapere Tutte queste cose Qui con tutti i suoi canali Ma se poi sei di Roma Come fai a sapere La succursale Lui Lui nel 2005 Era fuori la centrale A fare un servizio d'operazione Era dentro una punto E c'era una giacca Messa Su Il coso dove si arreggono E riprendevi Ok Ma nella succursale mia? No Nella centrale Ok Hai arrestato Un ragazzetto Di quella scuola là Che aveva appena venduto Un cinquello Cinque euro d'erba Ok Forse è un mio compagno di classe Eh dai 2005 Non ti preoccupare Dai Oh mio dio So chi è Ok Aspetta un attimo Questa persona Dopodiché Siccome era di lieventità Il fatto È stata Andata a parlare Con il prefetto Eccetera Eccetera Di conseguenza Che cosa è successo? Lui Tutte le persone Del giro suo Con cui fumava Ok Le ha tagliate Ok Sotto consiglio Del prefetto O degli psicologi Che gli avevano messo Che cosa è successo? Ha eliminato pure Il fumare marijuana Ok L'ha cambiato però Questa sua Con l'alcol Per cui è diventato Un arcolista Cazzo Da una dipendenza All'altra Esattamente Questa dipendenza Ancora peggio Si è incancrenita Ancora di più E ora è un arcolista Senza Dio Porca troia Beh però Però attribuire la colpa Al prefetto Cioè hai fatto No È un po' Induttivo No no Non è che Io quello che volevo dirgli Semplicemente a lui È che non sempre Il tuo arrivo Porterà a cose buone Alcune volte Guarda Questo Settimana scorsa Cioè me l'ha mandato In Whatsapp Anzi su Su Instagram Mi scrive Ciao Angelo Gli arresti domiciliari Ho saputo Che gli arresti domiciliari Io gli ho scritto Il giorno dopo Gli scrive Ciao come stai Che l'avevo arrestato Settimana scorsa E mi scrive Ciao Angelo Sei troppo un patato Comunque Sì è vero Dai il numero Mi scrive Ciao Angelo Tutto bene Dai Sono a casa Domiciliari Il 26 luglio E mi faranno il processo Come va Va L'importante Che tu Mi hai aiutato Ad uscire Da sta vita di merda Ti sembrerà strano Ma ti ringrazio Che mi hai incasinato Non mi interessa Penserà di avermi rovinato Ma invece Mi ha fatto solo del bene Un giorno Ci rivedremo come amici Per un caffè Angelo però Questo l'hai beccato Con la bamba Non con l'erba Non con l'erba Ah cioè Lo capisci dal messaggio 39 anni Come fatti Allora Per quanti miliardi De canne De vuoi fumare Per quanto Non ti danno Non arrivi Non arrivi economicamente A metterti sotto un treno Come la cocaina Con l'erba Per quanto Tu possa fumare D'erba Non arriverai mai Economicamente Sotto un treno E anche a rovinarti E anche a farti così Tanti anni di cadera E comunque Non è solo quello La cocaina Influisce Sul cervello Purtroppo Ti rende Uno stupido Ci hai mai parlato Con uno Dei 50 anni Che si è fatto 20 anni di cocaina Sta piallato Cerebralmente Sì sì è vero Mi sbaglio Ma io ti dico Lo sai Che ho persone Che mi chiamano Alle 3 Alle 4 Che con l'umore Che va Alle 3 Alle 4 Così ho bisogno Di andare in comunità Poi il giorno dopo Il giorno sotto E no E sì E quindi Cioè Riesco a creare Questa empatia Perché si accorgono Che Hanno davanti Una persona magari grande Che Noi parlavamo Di strada Questo percorso Arriva Dal perché Io l'ho vissuto Certo Cioè Non ci sono andato dentro Ma ho visto Quindi per me In qualche modo È un po' Tornare al passato E le persone Che Sono in questa situazione Hanno Un momento di disagio Cioè Non sono Cattivi Non sono malvagi Hanno un momento Di disagio Quindi È tutta una questione Di scelta È una questione Di momenti In cui In un altro momento Farebbero altre cose Cioè Io non posso Avere a che fare Con una persona Che arrivi in casa Io mi accorgo Da come tiene la casa Da come si tiene la persona E uno che mi dice Ma io fondamentalmente Sono solo Cioè La parola Solitudine Cioè È una parola Dove Tutti si rendono conto Che quando sono in riferimento Perché hanno Cinque grammi In tasca Divisi In dieci palline E si sentono Capito Che lo chiamano Il più importante Del mondo Il più figlio O splendido E lui è lo splendido Della situazione Nel momento Questo Quando tu arresti Poi nessuno Lo cerca più Quindi è un amicizia Quando eravamo Lì in ufficio Continuavano ad arrivare Gli messaggi Continuavano le chiamate E lui era lì con me E gli ho detto Lo sai benissimo Che da domani Questo non succederà Non ti chiamerà più Certo Lo sai benissimo Però tu invece Ti rendi conto Che Stiamo parlando Ovviamente Che tu intervieni Nella Nella catena alimentare Sui pesci più piccoli Certo Che è proprio lì Però Che c'è più umanità Ovvio Cioè che più in alto vai E più Si è disumani invece Però Perché qui non c'è La consapevolezza Di vendere la morte Come direbbe Brumotti Esatto Qui c'è Magari la voglia La botta No qui c'è O la voglia di La sopravvivenza La sopravvivenza Oppure riscatto sociale Esatto Cercare amicizie Vizio Dipendenza Più in alto vai invece E più invece Soldi Col cazzo Cioè lì è un'azienda Cioè lì è Devi sventrare Una multinazionale E anche armi più grandi E più pericoli Però a fronte di tutto questo Qual è il fulcro? Il fulcro è che È il disagio Il fulcro è che È un momento in cui tu Non riesci a gestire Come vorresti gestire E questo però Avviene Avviene da un percorso E quindi siamo stati tutti Piccoli E spesso e volentieri Il disagio Nasce Dall'infanzia E dall'adolescenza Tutti i traumi Ok Quindi Spesso e volentieri Quindi Mi sono accorto di questo E allora Mi sono detto Bisogna fare qualcosa È quello che vi ho detto Un po' all'inizio No? Allora Andare a parlare di droga È molto difficile Difficilissimo Perché uno Fin quando non c'è dentro lui O fin quando non c'è qualcuno Vicino a lui Si sente un po' Super partes È un argomento Un po' anche silarante Mi immagino Nelle squalici Che bello Parliamo di droga Esatto Quindi è molto difficile Allora Mi sono detto Ma parliamo di questa cosa Però entrando Da un'altra porta E allora Ho chiesto questo Questo non me lo sono Portato a caso E allora ho detto Chi è Qual è la realtà Che mi dà più fastidio Vedere Quando lavoro I pinguini No Il Esatto Il bambini Ah beh certo I bambini Perché Sappiamo tutti Quello che sono Quello che rappresentano L'innocenza L'innocenza E Ho anche Non posso vedere Una mamma Di 27 anni Che va in giro In macchina A vendere le buste Con la figlia di due Eh no Non posso vedere Un papà Che con il monopattino Si porta il bimbo Si avvicina la macchina E dà le buste Non posso accettare Di arrivare a casa E fare una perquisizione E portare i miei genitori E dire Il bimbo Che fine fa Allora Tutto questo E questa Fedez È Un'attenzione Che c'è bisogno Che sia sempre Molto alta Perché anche qui È una condizione Che Solo Quando poi gli dici Devo chiamare Il PM dei minori O l'assistente sociale Crolla il mondo Invece Questo non deve succedere Perché io arrivo A gestire Lo spacciatore L'acquirente In ufficio E c'è lì il bimbo Cioè in quel momento È un soprammobile Io non posso Dargli attenzione Cioè dovrebbe essere La prima cosa E purtroppo Rischia di essere L'ultima Perché è l'ultima cosa Che io dovrò collocare Non è il tuo ruolo Allora ho detto C'è bisogno Di tenere alta Questa attenzione Per Per arrivare Alle coscienze Alle coscienze Del genitore Del consumatore Dello spacciatore Di chiunque noi C'è bisogno Di arrivare a questo Ho voluto creare Questo pinguino Perché Rappresentasse Il bambino E ho voluto Che avesse Il forcone La maschera Il diavoletto Perché Ironizzando Sul fatto che Ognuno di noi È stato un bambino Ed è anche giusto Che abbia quel momento In cui sia ribelle In cui faccia La marachella Ma cacchio È tutto un altro discorso Che diventi vittima Di quello che domani Sarà il suo percorso Cioè questo Cioè domani Il genitore È dato in prigione Che cavolo di esempio Cosa gli vai a raccontare Probabilmente Potrebbe seguire Le orme Cioè c'è bisogno Ragazzi Di esempi Di esempi Positivi Ma sempre Con una chiave Anche un po' Ironica Sdramatizzata Capito Quindi Il don Guarda adesso Con una persona Squisita Che ha una società Che fa NFT È presente? Sì certo Allora ho detto Ma proviamo a dare Un senso a questa cosa Ci sono tanti Pupazzetti Tante cose Che hanno un loro senso Creiamo una cosa Che abbia un senso Nel sociale No Gli NFT Benissimo Vengono venduti Benissimo A me interessa Non mi interessa Dire che è mio A me interessa Che siamo utili Per qualcuno Facciamo una parte Che vada In queste case famiglia Sono andato ieri In Viale Corsica Al Trent In una casa famiglia Dove c'è un uomo splendido Che ha lì Otto bambini E il ragazzo Con cui ho parlato Si sta laureando E gli ho detto Scusami ma tu Quando è che sei venuto qua? Eh avevo due anni Porca troia Cioè due anni E quello si sta laureando E vuole fare medicina E io ho detto E io ho detto Vengono cosa posso fare? Io ho detto Ho detto questo qui Facciamo questi NFT Una parte La diamo Adesso faranno A Cascino Monluè Creeranno un polo Dove questa struttura Si trasferirà lì E si occuperà Di queste realtà Queste sono delle realtà Importanti Perché Questa fedez Questa Luis E questo È la prevenzione È l'educare A quello che ti capiterà Spessare il ciclo Posso dire È quello che Ci siamo ritrovati a dire Anni fa A giovanar di noi Cioè che L'educazione E non La repressione E il Il reprimere E il cercare Il proibizionismo Non ha mai funzionato Però Sei d'accordo con me? Sì Certo Ma sei d'accordo Anche che Ci vuole Cioè bisogna Essere chiari Bisogna essere credibili È ovvio che Io vado Come lui Vai Andiamo nelle scuole Ma per arrivare Alla gente Per arrivare Che l'utente Ti ascolti Devi essere credibile Devi avere una storia Credibile Devi essere credibile Allora se tu mandi Un poliziotto X Ecco questa è la realtà Che ti fa Così Ti mandano a cagliare Certo Uno Va un poliziotto Che è Credibile Perché Arrivi tu che sembri Action man Minchia Che è un'altra roba No uno dice Quindi questa È la cosa importante Perché questi bambini Saranno Gli adolescenti Domani E poi genitori A loro volta Quindi È ovvio che Se noi stiamo parlando Di fare I simpaticoni Con i ragazzi Che sono nelle superiori È ovvio che Hanno già Il loro vissuto Hanno già Quando io sento Parare Mi dicono Ma no Ma non parliamo Perché sono troppo piccoli Ma perché sta cosa Ma si tratta solo Di presentargli E la bene Perché non esiste un gioco Tu dici Al liceo Il gioco è già fatto Ma è già fatto Ma perché Non ci deve essere Un gioco Anche da piccolo Non ci avevo pensato C'hai troppa ragione Perché non devi Da piccolino Sì capisco tutto Ma ragazzi Ma svegliamoci Uno va sul cellulare E ti mangia in faccia Quindi voglio dire Ma perché Sempre come ti dico In una maniera ironica Stramatizzando Come forma di gioco Il gioco Tanto poi domani Si farà Lo scopriranno comunque Tanto Ma tu comincia A dargli La corretta informazione Perché devi lasciare Che si informi Marijuana Cos'è la marijuana È ovvio Che quello Va poi Ad ascoltare Quello che gli interessa Lui Che parli di marijuana Perché tra quello Ma dice Il rapper Sentiamo cosa dice Chicoria della marijuana E lui disse le sue cose L'angè che fa il poliziotto Ma no Non se ne parla neanche Io voglio sentire Repata Quindi Diamogli invece La corretta informazione E libero arbitrio Benissimo Questa cosa di abbassare l'età Certo Ma con Libero arbitrio Ma con la giusta informazione E prima Cosa aspetti Quando sei Giambello Splendido te No Anche da piccolino Se ci fosse un gioco Perché Quando ero piccolo io Nessuno Anche a te È venuto a dirti Che cosa è questo E ti spaventano E poi magari Fanno l'effetto contrario È la cosa alternativa È la cosa proibita È la cosa che si fa sballare Quindi La provo Se invece viene presentata Come una cosa Che è lì Ma appunto Perché Questa paura Di parlarne Però questa cosa Succede già Nei paesi In cui è legalizzata E poi io penso Che se legalizziamo In Italia Ci sarebbero molti più soldi Che si potrebbero spendere Per l'educazione Come dici tu Già dalle medie Sai che io ho una paura Sulla legalizzazione in generale No Sulle droghe leggere Vabbè easy Che inizia a costare troppo No 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 Che cazzo no 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 perché io Io di indole Sarei per la legalizzazione Totale di tutto Cioè Di tutto Poi però penso Quali sarebbero Le aziende Che gestirebbero Cioè ormai L'andrangheta Io anche Penso Hai capito? Secondo me Dovrebbero essere Le forze dell'ordine A fare questo tipo Di azienda Allora sì Statale dici Sì Loro per conto dello Stato Vendono la droga Avrebbe senso allora così O si detta così Ma bruttissima Potresti venderci l'eroina Un giorno No però Realmente Io credo fortemente Che il proibizionismo Abbia insegnato La storia Abbia insegnato Che il proibizionismo Non funzioni Ma anche perché Cioè E dall'altra parte Scusami No no Cioè ci tengo anche a dire Che mi sembra Che tu Svolga Più del lavoro Che devi fare Sembra che fai Molto di più Molto di più Di quello Per cui ti pagano Secondo me Tu fai No è il mio modo Di fare Sì Spacca Ma sai cosa Io Sono consapevole Che Arrivando Fino a un certo punto Cioè Prendo ad esempio Questo Ultimo Resto Di questa persona Dove Lui è sempre stato Molto ostico Come nel senso Non parlava molto Poi Verso la fine Mi ha detto Tu sei Quello che ho visto Su youtube È vero E gli ho detto Sì Quindi Ammollato un po' E siamo stati Un attimo A parlare L'ho accompagnato Fino alle camere Di sicurezza Cioè Già il fatto Di vedere Quando una persona Si mette a nudo Cioè Anche questa cosa Cioè Io la vivo Sempre malissimo Cioè Una persona È lì E ti dicono Togli i lacci A nudo letteralmente Sì Letteralmente Quindi spogliati Fai le flessioni Cioè Io Cerco di medesimarmi Io già In quel momento lì Il fatto di essere arrivato A quel punto Dove Anche tu lo descrivi No Fai le flessioni Non lo so Però se sei un criminale Incallito È normalità Se sei uno così Alla prima volta Ti piglia male Guarda Ti dico questo Io arrivo fino lì E poi cosa devo fare Retrofront Cioè Io Consegno i verbali Quello Lo lascio lì E lo lascio lì Quando mi allontano No Ormai Lui farà il suo percorso Rimane lì tutta la sera E poi il giorno dopo Avrà la direttissima E poi chissà cosa succederà No E lì è stato il caso In cui gli ho detto Guarda Se mi iscriverai su Instagram Capirò Che sei a casa Con i domiciliari Con le cose E lui mi ha dato l'amicizia Io ho capito E gli ho scritto No Però vedi Mi dispiace No Perché In quel caso lì E come in altri casi Dico Poteva evitare Di arrivare qua Che cosa avrei potuto fare Io Prima Questo te lo dico Perché A te piacerebbe Andare oltre Cioè io Voglio creare quel contatto Del Farti sentire dopo Perché Sarà quello Il momento Gli ho detto Gli ho scritto poi Guarda che io non sono Tuo nemico Anzi Certo Esattamente il contrario E gli ho scritto A volte Le situazioni più assurde Creano amicizie Inaspettate Certo Io gli ho scritto Non voglio che tu Ti senta solo E smarrito Dimenticati Il lavoro Che faccio E scrivimi Quando vuoi Cioè questo Posso dirti una cosa Un po' da cinico Non hai la sensazione Però che a volte Creare questo tipo Di rapporto Con te Le persone Che arresti Lo possano percepire Come c'ho un gancio Cioè Ho un amico No 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 Perché io No Non anteporo Avete capito Cosa intendo Cioè ricomincio A spacciare Perché tanto C'ho l'amico Poliziotto No Tieni presente Che io poi Sono abbastanza In grado Di capire Quando è il momento Di E con chi parlare In questo In questo senso Però c'è anche Quello che vuole fare Il furbo magari Ma sono abbastanza Sgamato da capirlo E quindi Non consentirlo Quindi riesco a capire Quando c'è un interesse Diverso E quindi è la cosa Che non interessa a me Però Vedi Per assurdo Lì Dici Adesso Il carcere Sarà la soluzione giusta Avrà la rieducazione giusta Per uscire Sarà veramente Riabilitativo Sarà riabilitativo Però È una condizione In cui Si è messo lui Quindi Vedi che Arriviamo sempre Al discorso Del prima Non dopo Prevenire Meglio che curare Anticipare sempre Prima le cose Perché Fin quando Ne parliamo Noi Da adulti E da persone Già navigate Uno ci ironizza Sopra Per sapere La gestire Quando invece Sei in determinate Situazioni Non ce la fai C'è quella ragazza Lì che andava in giro A spacciare Con la bambina Di due anni Cioè qua Sono arrivati a casa Con i genitori Persone perbene Anche lei Mi dice Il suo papà È in carcere E io mi sono sentito E io mi sono sentito di dire Ma tu lo sapevi Quello che faceva Sì Avevamo iniziato a pippare Poi quando lui ha iniziato A fumarla come crack Ha cominciato ad andare fuori di testa E ha cominciato a trattarmi Come una zocola Eccetera E è nato il bambino Lo sapevi E mi dice Sì però sai L'amore L'amore Ho capito L'amore per te stessa Però dove sta Perché se io sto con una persona Che mi tratta Alla pari Che mi tratta come una zocola L'amore soprattutto Per un altro essere umano Che stai dando al mondo E lì Arriviamo al punto Di prima Di questo E sta bambina E mo Cioè sta bambina Cioè il papà Che è in carcere La mamma Idem Sta con i nonni Ma i nonni Cosa gli raccontano Invece se ci fosse una bambina Che i nonni non li ha Finisce in casa famiglia In casa famiglia Con altri bambini E non sono tutte belle Le casa famiglia Possiamo dirlo I poveri bambini Che le frequentano Si influenzano a vicenda Perché magari uno Entra in casa famiglia Che ha problemi Un po' più leggeri Di altri E finisce Quindi Siete d'accordo Con me Che Io No io sono d'accordo Questo discorso Anche dell'arte E' importante Vuoi che siete Artisti Io nel mio Dove Poi vi faccio vedere La mia opera Allora Non esiste Non esiste La parola magica Che risolva Le situazioni Magari Non esiste nessuno Non esiste La persona Particolare Sono d'accordo con te Però fare Meglio che non fare un cazzo Esatto Guarda io mi sono ritrovato A fare questo discorso Con un rapper Con il salmo Perché avevo istituito Il fondo per i lavoratori Dello spettacolo Durante il covid E mi diceva Federico Non hai risolto un cazzo E io gli dicevo Sì Però Ho dato 2000 euro A 5000 persone Che non prendevano soldi Da un anno Non ho risolto Non ho risolto il problema Così non hanno spacciato Ma meglio che stare a farmi le pippe O stare a dire Fedez O Gino Ha fatto quella roba lì Perché voleva pubblicità E vabbè Sti cazzi Magari l'ho fatto pure Perché volevo pubblicità Ma l'ho fatto E se tutti ragionassimo così Ne parlavamo con Galini Nell'ultima puntata Farlo E far vedere Che lo stai facendo Cioè È la cosa più importante Di tutte Quindi con la consapevolezza Che non esistono parole magiche Persone magiche L'importante Cos'è almeno Farne parlare Parlarne Almeno questo Almeno Parlarne Non Posso aggiungere Posso aggiungere Dovremmo estenderlo Sull'educazione sessuale Dovremmo estenderlo Su tutto Bravo Bravo Grazie 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 Perché noi adesso ci siamo Cioè Abbiamo creato questo Annello attorno A questo discorso Ma questo È letteralmente Collogato A tutta una serie Di disagi Perché Quella è una condizione Di disagio Che ti porta Alla ricerca Di un qualcosa Che esiste Per annientare Quel momento È l'alcol È la stupefacente È lo psicofarmaco Quindi è questa cosa Che hai Ma il tuo ragionamento Di questo Arriva da una condizione La condizione Non è solo perché Sei depresso Per una ragione Perché Ma sono così tante Che già loro magari Vogliamo parlare di Omosessualità Ad esempio Cioè io non posso Sentire questa cosa Che un ragazzino Non può Parlarne E si suicida O si dà La droga Perché È tabù Così come a scuola Prende un brutto voto Si mette alla finestra Sono tutte condizioni Che magari Non arrivano neanche Allo stupefacente Quindi Quello che io voglio Rappresentare È il disagio A 360 gradi Del bambino Dell'adolescente Non Solo riferito Alla droga Perché i disagi Sono questi E purtroppo Siamo sempre tutti così Ripeto Quando non ci riguarda Invece Quando ci riguarda Allora siamo tutti Comprensivi Tolleranti Invece siamo i primi A puntare il dito Quando Ma io dico sempre Per assurdo Ma cosa Dite brutti Idioti Che un giorno Siete voi genitori Avrete voi dei figli E cosa ne sai Come cosa Mi fai a prevedere Di tuo figlio Come sarà Come nascerà In salute Che tendenze avrà Come andrà Come puoi essere giudice Tu Di un individuo Che passa O di una condizione Di una persona Quando poi Ti troverai tu Magari E ti piacerà Quando uno punterà Il dito a te E te ti piacerà Infatti Ma poi L'educazione Arriva fino a un certo punto Perché effettivamente Dicevi Quanto spesso Un insegnante Vi ha trasmesso qualcosa O la scuola Vi ha trasmesso qualcosa E quanto spesso Un genitore Vi ha trasmesso qualcosa Perché alla fine Sta ai genitori Cioè educare il bambino Non è educare il bambino Spesso è educare il genitore E a volte però Ti educa la strada E a volte Cazzo Certo ragazzi Però il genitore Prima era adolescente E prima era bambino Cominciamo a lavorare Su quello che domani Saranno genitori Sì 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 E che penso con i cani Come si fa con i cani Che se non si addestra il cane Si addestra il padrone Cioè il padrone È il diretto interessato Secondo me Tutti quanti dovrebbero imparare Che qualsiasi Di rapporto Tipo di rapporto Tu voglia formare Nella tua vita Questo rapporto Deve essere formato Sulla sincerità Ossia Se io e lui Vogliamo essere amici Io mi devo fidare di lui E devo essere sincero E lui viceversa Se A meno che non vendi Qualcosina Io non glielo direi Se fossi in te No era per dire Che qualsiasi Era una battuta Qualsiasi rapporto Va instaurato Sulla sincerità Per cui La trasparenza Io la trovo assurdo Che magari ci stanno persone Che a 25 anni Nascondono Perfino Che se fumano Una sigaretta I genitori Perché non li vogliono Come si dice Far Sconvolgere Spesso i genitori Più severi Sono poi quelli Che fanno I figli Più Al corno Guarda Non c'è una regola Perché tutti mi dicono Non esiste classismo Nei disagi Ragazzi Eh però Guarda che Un'altra Adesso Stavo parlando Abbiamo parlato Di disagio Abbiamo parlato Di bambini Adolescenti Ma ieri Ho visto Un film Pazzesco Invece Anche sugli anziani Non dimentichiamoci Anche questo Allora Ti faccio Questo Mentre andavo in moto Due giorni fa Perché io ho il cervello Che funziona Sempre a 3.000 giri E giuro Che non prendo nulla E stavo pensando Cacchio Angelo Cioè Tu hai 55 anni E hai Il focus Cioè È come se Tu ti guardi Davanti a te E a fuoco Hai il centro E il centro È Il tuo simile Le persone Leggermente Più grandi di te E quelle Un po' meno Grandi di te Ma a fuoco Hai questo Poi hai i margini Sfumato Hai Gli adolescenti I bambini E dall'altra parte I vecchi Questa Questa fascia L'hai già vissuta E ti ha portato Ad essere Quello che sei Dall'altra Hai Il vecchio Cioè Io quando vedo Una persona vecchia Lo vedo E in un certo senso Sposto subito Lo sguardo No Poi mi dico Ma guarda Angelo Che se sei fortunato Arriverai Arriverai anche tu lì Cioè Provate a fare questo Questo gioco E dire Ma guarda che È una condizione In cui stai arrivando Tu adesso stai vivendo I tuoi impegni Le tue cose Ma guarda che poi arriverà Quello che sta giocando a bocce E guarda che è un cerchio Che si chiude Nel senso che io ho notato Con i miei nonni Che gli anziani È come se ritornassero bambini Perché hai bisogno Di chi ti cambia Il pannolone Cioè È come se tornassi neonato Sì Ma il film di ieri Che aveva la demenza Cioè E Questa persona Che non si ricordava Più le cose Cioè Hai presente anche Quella forma Di disagio Quindi L'attenzione Va a 360 gradi Bisogna essere meno egoisti Di pensare Rigorosamente Al momento in cui Vivi tu Perché Da un momento all'altro Tutto cambierà Mi dicono Ma perché Angelo Tu stai lì A perdere tempo A parlare con quello Nel francazzo Ha deciso di fare quello Ma perché io Non so domani Che cosa mi succederà a me Non lo so Cosa succederà a me E non so ciò A cosa succederà Ai miei cari E non vorrò Che Essere trattato In questo modo Ma io devo essere Il primo A farti vedere Che sono così Perché se non ti do L'esempio io Come posso Vedere che l'artime Trattano uguali Ma è semplice Empatia Ma è così semplice Il ragionamento È semplice Da dire Da comprendere È difficile Da mettere in pratica La frase che viene detta Più spesso in Italia Dai dipendenti pubblici È proprio Non rientra Nelle mie mansioni Io cosa ci posso fare Cioè È anche un De responsabilizzarsi E deumanizzarsi E deumanizzare Cioè io Io ho il mio compito Ma poi in tutti i campi Immagino Le persone Lasciano stare Dico ma Che mi frega a me Io non c'entro niente Non posso aiutare Cazzo Sono d'accordo In parte con voi Perché è un po' come dire ai cantanti Devi Devi educare il tuo pubblico Poi da una parte uno dice No sono i genitori Poi però Quando io sento Il pezzo trap Io Cioè per esempio Ti chiedo Le droghe Quando tu hai fatto il documentario Quindi 2017 2007 2007 Le droghe farmaceutiche Non esistevano Pressoché No esistevano Tra i tossici Tossici di eroina Quelli pro Quelli pro di eroina Però Tra gli adolescenti Non c'era Non c'era L'oxanax Quando ero piccolo Io negli anni 95 96 C'erano queste Stesse cose Che oxanax Rivotril Ste robe qua C'erano Poi c'è stato un buco Un buco E nessuno Adesso sono ritornati in voga Quanto vanno? No Sinceramente Io non è che No a che fare tantissimo Ah no? No Sinceramente Ah cazzo Pensavo tanto No lo sai invece Mi è capitato Delle realtà Invece Di Di metanfetamine Che sono In determinati Circuit Etnie Etnie E anche circuiti MD PVP Oppure la Tussi B Tussi B Certo Cocaina rosa La spagnola La Tussi B Ce l'hanno offerta A noi Scrivimi su un foglietto No Io mi ricordo chi è stato Scrivimi su un foglietto Dopo lo scrivo E sai chi sei Su un foglietto Scherzo 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 E' anche famoso Troverei Esatto Aia Perché questa Che è molto particolare Perché Chetamina e cocaina Insieme MD Che cazzo No no E' una metanfetamina E' rosa Viene chiamata cocaina Per il prezzo Perché costa tanto E' in realtà Una postiglia Che poi rompi E poi Bertela Inali Ah te la pipi Ok Però è rosa È particolare È un erogo molto particolare Però ovviamente Anche questa qui Voglio dire Cioè Ha tutto un suo perché Ma E' la mia opera? Ah facciela vedere Che in realtà Noi l'abbiamo già vista Fede E' un panetto E' un panetto di fumo? No E' un panetto di coca? Oh mio Dio Ma è bellissima E' un panetto di coca Con il coso Per l'emergenza Bella Mia moglie è scioccata Puoi riprendere la mia moglie Guarda Eh no Non può Non ci arriva Però questa ora chiude tutto È un concerto Allora So che suona malissimo Ma me lo regali? Ma no Devi pagarla Il prezzo è quello della E quanto costa? Il panetto Aspetta Provo a indovinare Facciamo che il pezzo è giusto Eh certo Il pezzo è giusto Allora Allora Sono No questo è scritto Il pezzo No voglio sapere Devi indovinare il prezzo Ricordatelo dalla strada Allora Un chilo E 83 Un chilo Te la fanno Se compro Vediamo se sono Fai al dettaglio Però immaginate che al dettaglio Allora al dettaglio Te la fanno a 50 Se la compro un chilo Me la fanno a 20 Per 50 Eh la madonna Che ricarico fai Mazza De che 20 euro te la regalano 20 cosa? A 20 euro al chilo A 20 euro 20 mila euro per un chilo Te la stanno regalando Allora 50 mila euro 40 dai Tra i 40 e i 30 Tra i 40 e i 30 mila euro 30 è quello sconto Diventa il livello di purezza Amico mio 30 perché torni a comprarla da me 30 Scusa posso fare una domanda Ma è legale venderlo? Allora aspetta È un concept È un'opera No ma dentro c'è veramente Allora aspetta Però il discorso è questo È tipo la merda d'artista Che non si sa No Ci sei arrivato Ok Allora Questo esprime tanti concetti Questa è la riproduzione reale Ok Questo col penarello È come quando a noi Arriva che li sequestriamo Quando li troviamo Non li troviamo con il peso Certo poi lo scrivi tu Ok io lo metto sul bilancino E lo scrivo E quindi io lo riprodotto La bilancione Il confezionamento È sottovuoto il primo strato No ma non dire se dentro c'è o non c'è No aspetta No ho detto questo Io ho detto il confezionamento Ah chiaro Poi il concetto era di metterlo Nel retro di una tela E di metterlo sotto vetro Come se fosse nascosta Questo è in caso di necessità Ma il punto è Se tu lo gratti Lo rompi È bianca la polvere dentro Quindi l'unico modo È fare il narcotest Per capire se è vero o no Però se tu lo prendi come un'opera Nel momento che uno la pista Non puoi e non devi Diventa un'opera d'arte Non lo puoi rompere Ma la vendi? Certo il prezzo te l'ho detto È quello Ma io te lo compro subito Questo è il prezzo Ma io te la compro È bella eh Guarda mia moglie Ma raga ma posso dire Il giorno che ti arriva La polizia in casa Raga ma è una delle opere Più fighe del mondo È bello Poi che altro Da chi è stata fatta No ma ti posso dire È un poliziotto Antidroga Sono sincero È una delle cose più belle Eh sì Cioè Noi Cioè Frequentiamo arte Andiamo alle mostre Ah bene Giuro giuro Cioè io sono amico Di Francesco Vizzoli Uno dei più grandi artisti Contemporanei Che abbiamo in Italia L'avevo concepito Con questa idea Perché Ma è geniale Deve Eh sì Fatemi un caffè raga Mi sono emozionato Tento che a tale Il caffè fa effetto Proprio Io pure Anche io Grazie Mi bambizzo tutto Fè stai lasciato Una coppia Tua Grazie mille Mi sa che è proprio lui No ma No volevo fare una domanda Oh grazie mille Che bella calligrafia Che hai Una domanda per il cicoria È bella la firma Domanda per il cicoria Tu Appartieni a un Alla Seconda repubblica del rap Per me no Ok Ci sta Hai fatto parte del Turciclan Io da piccolo Andavo ai concerti Cioè Arcore Rap hardcore Rapcore Ok Oggi No Cioè ti faccio proprio la domanda Ma a te sentire il trapper Che ti racconta Della Della codeina O che ti fa La canzone Su come Come farsi di codeina Se robe qua Cioè Ti tocca Non ti tocca Ti irrita Lo trovi sia giusto Sia un modo di esprimersi È il suo modo di esprimersi Io non sono nessuno Per dirgli Mi fa schifo Non dovresti dire queste cose Ok Cioè Perché devo essere io il censore Giusto No Certo Sono d'accordo Poi come dice lui È meglio che se ne parli Sicuramente Però Non sono d'accordo Quando Come si dice Enfatizzi Cosa c'è Qua Perché comunque Un minimo Io sai cosa penso No aspetta Ti voglio raccontare Ti voglio raccontare Una cosa Qualche giorno Un paio di settimane fa Mi stavo vedendo Questo documentario Che ha fatto la Rai Sulla droga Ok A un certo punto Hanno fatto vedere Un ragazzo Che comunque Si è ridotto Uno schifo Con il crack Ok Ok E fanno vedere Un'immagine Di quando Di prima che lui Entrasse in comunità In cui Si sta a fumare Il crack E c'ha Come sottofondo Una canzone nostra Ok Dentro c'è clan E lì Un pochetto Mi è presa a male Ti devo dire la verità Perché comunque Quando uno scrive Soprattutto Come dici tu Durante la seconda repubblica Quando noi scrivevamo Non eravamo Ben consci Di quanto le persone Ti ascoltano Ok Certo Di conseguenza Non te ne rendi conto Fino a che non ti vedi Un filmato del genere Che cosa hanno Non dico Non sono responsabile io Perché non è che Gli ho detto Gli sono andato io A comprare Il cinquino De bamba Da fumasse Il crack Certo è ovvio Ovvio Però Però sei stato La sua colonna sonora Però sai cosa penso io Invece Che a volte I trapper Che si fanno Che parlano di droga Sono i migliori testimonial Per non drogarsi Dici che è un bel testimonial Sì ma Gli ascoltatori Non ci arrivano A fare il pensiero Che hai fatto tu E dai Un ragazzino Secondo te Un ragazzino Un ragazzino Pensa che quello è figo Perché sta tutto smembrato Dalla cocaina O dalle droga Sì riguardati A 14 anni Il più figo Della compagnia Chi era Per me era l'ex carcerato Era quello Che ti raccontava Oh no Comunque ho fatto sta roba Che figo Madonna E poi se lo riguardi Poi ascolta una cosa L'uomo È una macchina Che funziona Ad emulazione Ossia Io penso che tu sei figo Ti pippi la cocaina Non lo riesco a vedere Che sei uno schifo De uomo Ma vengo attratto da te E' probabile Che inizio A pipparmi la cocaina Questo È applicabile Con tutto Con le sigarette Con la cannabis Spirito di emulazione Esattamente Eh sì È vero È vero E poi spesso È vero C'è sempre Ci sono sempre Sti elementi Troppo grandi Che escono Con dei ragazzini Troppo piccoli E i ragazzini Li vedono Come dei fighi Cioè troppo grandi Magari a vent'anni Capito Però esci con dei Tredicenni Quattrodicenni Però è un problema Che tu A vent'anni Non esci con i tuoi Coetanei O magari con qualcuno Più adulto E invece esci con i ragazzini Più piccoli Cioè che cosa C'hai da scambiarci Con questi A parte la droga È che sei rimasto A quell'età lì Forse Sì Sì È che spesso Nelle piazzette Io sono così Gigi Esatto Io sono così Io sono il Abbiamo dieci anni Di riferimento Io sono con gente Più piccola Cazzo è vero Perché quelli Della tua età Ormai Però vedi Non mi drogo Mi nutro Della tua giovinezza No ma è che tu sei Gli artisti Ecco gli artisti Escono Gli artisti escono Un po' dal circuito Predestinato No ma ci racconti Un arresto divertente Cioè una cosa Anche tu puoi Anche tu Ma non vedi come ha fatto Divertente de gay Ma dai una roba Che proprio Che proprio No che invece proprio Ti ha fatto ridere Emozionante Un po' Un po' tragicomica Una cosa tragicomica Una comica Fino a un certo punto Perché rischiava Di essere pericolosa Allora praticamente Avevamo Arrestato Saputo di un tizio Che vedeva in casa Quindi in appartenente La gente Saliva in casa E poi scendeva Quindi noi ci appostiamo Sulle scale Ovviamente poi riusciamo A vedere che la cliente Entra in casa Esce Lo fermiamo E lo fermiamo Con la bussa No Il problema Poi è entrare in casa Perché ti serve il mandato No No Deve entrare Prima che lo spacciatore Elimina tutto Ah perché butta tutto nel cesso Esatto Ok Ma cosa succede Che tu devi entrare in casa Allora i modi sono due O entra un altro cliente E poi quando lui riesce O mentre sta entrando Entri anche tu Sì Oppure trovi un modo Perché lui apre la porta E qui era sera un po' tardi Quindi i clienti cominciavano A non arrivare più Quindi arriva sempre più sera E ho detto Ma cazzo facciamo entrare adesso E poi ci inventiamo Più classico Eh ma io però non posso svelarlo Perché però io Ti sputtano il trick Ti sputtano il trick Non posso Ti sputtano il trick Allora te ne invento io alcuni Dai Vediamo Di trick Sì di trick Allora Che ore erano? Era sera tardi Tipo le quattro? No sera tardi Le nove Le dieci di sera Alle dieci di sera Ok Alle dieci di sera Ti sei vinto Portatore di pizza No No Perché deve averla Non c'ha bocca nessuno Non c'ha bocca nessuno 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 c'ha bocca così Vicino di casa Che ha perso le chiavi? Ma il vicino di casa Lo conosce Lo conosce In mezzo Che poi gli entra la polizia Quello dice Lo conosci Mi fai fare il cazzone Domanda Dovevi farti aprire il citofono O riusci No No dalla porta Solo la porta Eri già al pianerotolo Eri già al pianerotolo Orca puttana Cioè scusa C'hai dello zucchero? Mi sto cagando addosso Ho un attacco di arrea No Hai causato Qualche rumore esterno Di modo che lui Ha uscito No ma è semplice Sono amico di quello di prima No Hai causato Qualche rumore esterno In cui lui Ha aperto la porta Per capire Ma no No Ah minchia Una ferrata per aria Ma che No Ehi Lei ti nascondi No Dopo due secondi Oh bè Cioè Ma non Perdi il lavoro Non ce la puoi dire Non ce la puoi dire Allora Togli di mezzo Tutti i personaggi Oh mio dio Ce l'ho Neanche Chiami una bella figa E lo fai E fai suonare Chiami la tua amica figa Fai suonare Poliziotta E se non hai lo spiancino E la madonna Dove cazzo vive Ce l'hanno tutti lo spiancino No No Non apre Dai come fai Vabbè Dai Vai E dicela Vabbè E sera Quindi in una casa Se uno è sera Hai tolto l'elettricità da sotto Geniale Quello è scia aperto Bellissimo Gli hai fatti il black out Bellissimo L'aveva comunque Non è che ho detto Sei sceso giù alla cantina E l'ha tolto L'interruttore in generale Non è che scopro l'acqua calda Bellissimo No ma aspetta Dove è che sta La cosa è un attimo divertente Ma che rischiava di essere Questo Era mezzo in pigiama Perché ormai Era sera Che ormai aveva Pagliato i battenti Tu immasi Di che Tutto buio Perché ovviamente La corrente non c'era Uno apre la porta E nel momento In cui apre la porta La polizia Arrivò La polizia In borghese Questo cosa ha fatto Aveva L'accendi gas Quello fatto a pistola Oh mio dio Questo Ha aperto la porta Con il braccio così Che sembrava un ferro vero Sembrava che si stesse puntando La pistola Perché ha aperto In un momento Un attimo di panico Perché abbiamo visto questo Col braccio puntato così Boh Gli siamo zampati addosso E poi in realtà Era l'accendi gas Sai in America Era morto Era morto Era morto Era morto Era una scola pasta Ecco Voglio parlare di questa cosa Io sono appassionato Delle bodycam Dei poliziotti americani È incredibile Prima spari Poi fai le domande No ma Cioè Ma loro non operano No ma Sono lì E poi vanno No ma da soli Ma poi Ho scoperto Tra parentesi Che molti Si suicidano così Sì 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 Perché te Che praticamente Tu vai in mezzo A una strada Con un coltello Ma anche se Fai finta anche Cammini verso il poliziotto Sai che quello ti tira Sì ma il poliziotto In Italia Ho visto una scena a Roma C'era Nero Nigeriano Con un coltello Giustamente Il poliziotto cosa ha fatto Ha aspettato un po' Ha aspettato un po' Ha fatto la gamba Ha sparato Alla gamba In America Ci vuol mira però Ti svuotano il caricatore nel petto Poi ti parlano Ti dicono Stay down per 5 minuti Ti mettono le manette Ti metto le manette Poi chiama l'ambulanza Cioè la roba Che non ha senso Non ha senso Vabbè niente C'è anche da dire Che lì hanno molte più armi Qua in Italia Quanto spesso Si incontra una pistola No no È difficile È difficile Anche le rapine Le fanno male col taglierino O con le pistole giocate Perché sanno che la pistola Poi aumenta di bambino È reato Però Qui al nord Io credo che se vai al sud Ancora c'è qualcuno Che va a spacciare la pistola Eh beh sì Penso di sì Eh sì Oppure quelli che fanno I portavalori Ah la madonna Con il taglierino E con le pistole giocate Li fanno ancora i portavalori A voglia Quei galagini Bloccano le strade Beh lì devo dire Un po' di adrenalina Mi viene È pesante Lì deve essere Che va Che va L'adrenalina Ti paralizzi Porca puttana Ci ha detto che il cicoria Deve andare Volevo solo fare Un'ultima domanda Ti è mai capitato No Di Pensare Che stavi acchiappando Un pesce piccolo E hai preso invece Un pesce grosso È quello che dicevo prima Sì Scusami No 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 Allora In parte Perché In parte Diciamo che Il risultato Non era così Aspettato C'era arrivata Una segnalazione Che c'era un tipo Che faceva Che faceva Tenere la roba In un garage In un box Fuori Milano A questa Bella particolare Perché Eravamo in pochi Di solito Noi siamo in 7-8 E vi eravamo rimasti In quattro Quel giorno Era una mattina Eravamo andati Come sopra luogo Per vedere Se in realtà Corrispondeva Che c'erano Due rampe di scale Perché altrimenti Arrivi là E dici Mi hai parlato I due rampe Non c'erano La casa verde Non c'è Quindi Devi constatare Che l'informazione È giusta Quindi arriviamo All'altra mattina E quindi Fondamentalmente Noi dovevamo Vedere Se c'era un tipo Che in realtà Faceva il muratore E che aveva La disponibilità Di questo box Ma andiamo andati A vedere Se in realtà Era tutto uguale Abbiamo preso Un panino Me lo ricorderò Benissimo Eravamo fermi Con la macchina A un certo punto Prendo un panino Mi metto a mangiare Il panino Guardavo Dallo specchietto E arriva Una macchina E scende Un tipo Lui super Super splendido Ce l'aveva scritto Con la tuta Un po' Pocciotto Pelato Con il marsupietto A tracolla Ho detto In divisa proprio Ho detto Interessante Mi fa volare Che c'hai Il busher radar Cazzo No Lui è interessante Era con la macchina Arriva una macchina Subito dopo Arriva un'altra macchina Dietro Si fermano In prossimità Di questo garage Che scende Scende quello dietro Un ragazzetto Va da lui E si percepiva Avevo già capito i ruoli Si percepiva Da come lui Era andato dall'altro Era un cavallino L'altro E' andato Quello lì Ma Grettino Arriva Cosa fa? Io guardo Dello specchietto Si mettono a parlare E ha fatto la mossa Che ha sbagliato Che però Solo con uno così Si è trovata la persona sbagliata Cosa ha fatto? Han parlato un po' Quello Magrettino E' ritornato alla macchina E ha preso una busta vuota Una busta Trasparente No no Una busta Quelle di carta Sì per mettere i fogli Un sacchetto Ha preso il sacchetto Si è avvicinato E' andato giù Mi sono guardato Con gli altri E' andato a prendere la busta Per mettere la roba Gli ho detto Scendiamo Scendiamo? E' detto Scendiamo? Scendiamo Però arrivo E vedo che loro vanno giù Nella rampa di sinistra Erano due rampe che andavano giù Noi eravamo in due macchine Non di più Scendono Arriviamo Si apre il cancello Va giù Eravamo al telefono Scendiamo No 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 Fermo 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 Aspetta Non sapevamo dove era il box Aspetta Dobbiamo dargli il tempo Se scendiamo adesso Non saprete mai quel box Aspetta 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 E lì sta a contare Mamma che adrenalina E se si riconti Scendi Adesso no Aspetta Aspetta Non sapevo quante rampe erano Aspetta Aspetta Cioè gli ho detto Andiamo giù piano piano O scendiamo Andiamo Vado avanti io Che cosa fa l'altra macchina Non va giù nell'altra Scala No Dietro L'altra L'altra Quindi mi sono ritrovato da solo Sono sceso L'altra Ora che fa la retro Per venire indietro Io scendo Faccio la prima rampa Faccio la prima rampa Con la macchina niente Faccio la seconda Appena sbuco dalla seconda Giro Mi trovo di fronte a me In box aperto Vuoto Con dentro una macchina Il tipo che sta facendo così Per tirarlo giù Quello più grosso Quello più piccolo Con il sacchetto in mano Piano Arriviamo Scendo dalla macchina Ha fatto Tom Così Tom Da come è caduto Questo Un chilo Tom Mi sono avvicinato Fermo Fermo Io sono andato subito da quello lì Che era Una bestia Vado Fermo Gli prendo le mani così E ho detto Capito? Fermo Lui Un signore Perché quelli di un certo livello Sono di un signore È rimasto Fermo così Ho messo le mani in tasca Sapevo di non trovare roba Né niente Ma io cosa cercavo? Il telecomando? Avevo già visto il box Avevo già visto che era vuoto C'era una macchina Ma poteva essere nel bagagliaio Ma era troppo pulito Quindi Le chiavi lui le aveva ancora Perché stava tirando giù No Controllo E lì proprio Una roba Io e un altro mio collega Che è il massimo Tira fuori Dai Tira Trovole Andiamo all'altro box Mentendo spudoratamente Facendo finta di sapere cose che non sapevo Andiamo all'altro box Nel frattempo l'altro è andato a controllare Lì non c'è Oh mio Dio Lui ha fatto così Ok Preso sotto braccio Gli ha detto Dai Andiamo E io facevo Andiamo Che se sbagliavi direzione era la fine Andiamo facendo camminare Sappiamo tutto A parte che Comunque con le chiavi Gli aprivo tutti Certo Ma Facevo andare avanti lui E quindi come per dire So già dove Vai E qui andava avanti E Alessandro Il mio collega Gli diceva Ok ma com'è E lui E lui E diceva così È la macchina Arriviamo al box Apro C'era una multipla E lì lo scenario era completamente diverso Si capiva che era quello giusto Apre la multipla Io entro dentro Guardo E mi trovo I panetti Su il sedile No E capisco che proprio L'habitat era Alessandro Gli dice Ma Non è che C'è il doppio fondo E lui lo guarda E mi pare di dire Io Vado dietro Apro il bagagliaio dietro C'erano tutti i fucili Il bagagliaio dietro Lì nel sottovuoto Invece nel coso Apre Con il dispositivo Comincia a tirare fuori Uno Due Tre Quattro Cinque Panetti di questi Uno Sette Ootto Nove Dieci Dodici La multipla Mi sembra una macchina così innocua Io andavo a prendere la droga a Napoli No ma Scusami A che numero sono arrivato? Quanto? Sette Sette Ventotto Ventinove Madonna Tutta sta roba Fammi fare il calcolo Trenta Trenta chili di coca I fucili in più Sono tipo mezzo milione di euro E tieni 600 mila euro Ma che 600 mila 20 mila hai detto 30 mila Ok ok Ma Trenta mila per trenta Ah quasi Beh quasi un milione Un milione Eh sì circa Ma poi venduta Aspetta Venduta al dettaglio Ne fai due Aspetta Perché non era finita Quindi Lui Mi dice Lui era il proprietario Della roba E mi dice Non sono mai venuto io E in quel caso lì sono venuto io Per dare qualche Per una casualità E è venuto lui E ha detto Non vengo mai Ma ancora lo sapessi Che sfiga Mentre eravamo lì Che per chiusciamo Noi in realtà Perché eravamo andati lì all'inizio Per quello che gliela teneva Che vestito al muratore Arriva il tipo vestito al muratore Lo Aspetta Aspetta Comodissimo Stromodissimo 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 In questo caso Come lo chiami Beh complice Complice Ok È quello che fa la retta Aspetta Presta coca Però cosa Però Lui arriva E cosa facciamo Lo fermiamo Capiamo che quella persona In casa Faceva la perquisizione Aveva dell'ascis Un po' Perché adesso non mi ricordo Ma qualche etto Però lo vedevo Non dico tranquillo Però diciamo Abbiamo trovato questa roba Ma noi eravamo andati lì Perché ci avevano detto Che lui Aveva la possibilità Di utilizzare quel box E allora Che cosa è successo? È muratore No Nella perquisizione Con destra Io non cercavo la roba Non cercavo soldi Cosa cercavo? Una cosa cercavo Le armi? No Aspetta Aspetta Cos'è che cercavo? La bamba No La bamba l'ha trovata Il contatto? Il contatto Ma in che modo Lui potevo Appiopagliare anche Di quella roba lì Se lui aveva I messaggi? No Se lui aveva cosa? Abbiamo detto Che l'abbiamo trovata In un box Sì Le chiavi del box Bravo Allora In un contenitore Con tutte le monete Rovesciato Quello C'era una chiave Una sola Una Ho preso la chiave E ho detto È del box Spera Che questa Non sia la chiave Che dico io Vieni con me Lui è venuto giù con me Tutto tutto Siamo andati in quel box lì Boom Messo la chiave Sei complice Ok Quindi lui ha la chiave Anche di quello E è andato dentro anche lui Porco Giuda Mamma mia Questa è fortissima E è capitato Tra lì Questa e questa Partita Da una segnalazione Così E da andare lì a vedere Se esisteva Questi comunque Avevano così tanto da perdere Così tanto da rischiare Che potevano essere pericolosi Beh questo Poteva essere armato Ragazzi Cicoria perde il treno Ok Ragazzi facciamo un applauso Veramente Perché è stata una puntata Ad Angelo Lancet E a Ercicoria Puntatona Bellissimo Veramente Grazie mille E spero che non finisca qui la vostra La vostra conoscenza No ragazzi Io sogno di fare una puntata Con voi due E Brumotti Per confrontarci tutti insieme Beh io ho questo Ho questo sogno Ho questo sogno Ho questo sogno Ciao Ho questo sogno